...una sostanza che passa da una fase dubbio a una solida, e viceversa, vedremo quel che si chiamano problemi di frontiera libera. Il corso, diciamo, sarà ovviamente ragionato l'unità tecnico, non commenteremo nei dettagli, certo, delle dimostrazioni della parte, chiamiamola standard ormai, delle equazioni parapubbiche, quindi equazioni parapubbiche lineare e non reali, comunque efficienti, diciamo, regolati, insomma, è tutta la cosa che deve uno notare. Quello che ci interesserà, tanto per cominciare, sarà il problema di cambiamento di fase. Diciamo che, supponiamo, di avere in simetria piana, quindi le quantità fisiche di metriane da una coordinata spaziale che è la X. Questa X, scusami, ha scissa S di T. Supponiamo che ci sia, che questa scissa termini separi due regioni, quella che chiamiamo A2, X maggiore di S di T, è una regione occupata dall'acqua liquidata dall'acqua. Supponiamo, per fissare l'idea, che ci sia un avanzamento di fronte verso l'extra, cioè il ghiaccio si sta sciogliendo. Allora, quale quantità di quanto calore ci vuole per sciogliere il ghiaccio? Come si sa? Dice che è necessario una certa quantità di calore che è l'altra, quindi il calore necessario per sciogliere il ghiaccio, ammesso che il fonte nell'intervallo di tempo di T0 e T1 avanza da S di T0 a un S di T1, che è più grande di un S di T0. Il calore necessario per sciogliere il ghiaccio, il calore assorbito. S di T1. Bene, vediamo. Possiamo sopporre, visto che siamo insieme a Pianiana, giusto per fare le cose precise, possiamo sopporre di considerare, per esempio, un cilindro, quindi un disco, se preferite, di questo di nuovo è la 6, un disco quindi ortonale è la 6 e questo disco dentro il disco già c'è sull'interfaccia di questo quale S di T1 e perciò sta avanzando l'espressione. Allora, questo disco passa dalla posizione S di T0 alla posizione S di T1. S di T1 a descrivere il cilindro. Questo è il calore assorbito per sciogliere questo cilindro di ghiaccio. Questo è il volume del disco, delle strane del cilindro, quindi l'area di giù è S di T0, S di T1, anzi, non S di T0, crea L. L è il calore dell'attente. Diciamo che ogni tanto volume è semplicità. Supponiamo che il fenomeno comunque ruponga dei cambiamenti di volume, eh? Ma qua è il calore di questo. Questo è il progresso. Ora, chi è che fornisce questo calore? Beh, dov'è che entra la natura l'equazione parabolica, eh? Qui c'è un tanto con questa frontiera che si muove. Che c'entra l'equazione la natura l'equazione parabolica con questa frontiera? Beh, perché se noi supponiamo che in questa zona, in questa zona, in questa zona, in cui si è arrivata in un ghiaccio, appena una produzione, una diffusione di calore, appunto il calore assorbito non potrà essere disformito da questo fenomeno di diffusione di calore. Quindi dal flusso che sostanzialmente arriva al flusso di calore che addientra in... Allora, questo flusso di calore, secondo la legge di Fuglieri che noi assumiamo, il flusso di calore è meno K1 gradiente di dita nell'acqua, abbiamo anche presente in questa la... Quattuglia un po'... e sarà anche di giuro K1, 2K2, 2K1, 2K5, 2K1, quindi il flusso di calore è meno K1 gradiente di teta in alto. Perché l'acqua in calore lo dovrebbe avere hanno proprietà diverse. Teta è la febbraina. Possiamo assumere che il cambiamento di fase avvenga A, che è per la tutta nulla. Quindi questo calore, quel calore assorbito A, sarà necessariamente che cosa? Quindi il calore, quella quantità, il calore assorbito sarà l'integrale tra 0 e 1 del flusso attraverso D, che arriva in D, del calore, è dovuto ancora leggere su D. Quindi questo sarà superato sul D, naturalmente, di che cosa? Beh, vediamo un po'. Allora, da sinistra abbiamo meno K1 gradiente di Teta, scalare la normale, perché entranti invece verso destra, quindi più. E' un po' che è il solito vettore standard, la base standard. Da testa abbiamo meno K2 gradiente di Teta, scalare meno E2 gradiente di vettore inferiore inferiore della testa. Quindi S, sì, ma se preferite in D. Questo oggetto, naturalmente, se vi scappola una cosa che dice, oh, comunque attenzione, qua ho fatto un... Mettiamoci in D, Teta, da sinistra, se... Anzi, facciamo una cosa per questo. Qua ci devo scrivere S di D, da sinistra, di T. E qua ci devo scrivere S di D, da destra. Sf, scusi, il persone non è un uomo sia da una parte di dall'altro. Sì. Grazie. Grazie a te. Naturalmente. Bene. Invece, la cosa da remarcare che in istetti non è detto affatto che il gradiente da destra sia quello del gradiente da sinistra in generale, ovviamente questo non è vero. Per questo è necessario specificare che sia il limite ottenuto sull'interfaccia proclamando la sinistra o il limite ottenuto provenendo dall'altezza. Vabbè, questo è un integrale scatola molto semplicemente perché ovviamente l'integrale interno scatola perché naturalmente non c'è niente che diventa dalla variabile di spazio su t, quindi quello che si ottiene è un'area di t che si va a cancellare con quella che si fa. Perciò alla fine si ottiene semplicemente, non lo sto a fare, questo è una scuola molto raro, che è n per s'1 per s'0 ma l'integrale si divide per t1 per s'0 si prende il limite e quello che si ottiene è f. Quindi per t1 meno t0 che va a 0 si ottiene ls'1 uguale a quella cosa che dicono qui là, meno k1. Il gradiente a questo punto è semplicemente tx, quindi gradiente tx di s di t meno i più k1 tx di s di t. Questa è una legge che necessariamente governa nelle ipotesi fatte, che non sono moltissime, nelle ipotesi fatte governa l'andamento della frontiera. La frontiera avanza in modo proporzionale al gusto di calore che arriva in un punto, non è così strato la cosa, anche semplicemente che il calore che arriva viene convertito in calore radente usato per sciogliere il ghiaccio oppure per congelare l'acqua. Questo è uno, potrebbe anche inserire l'altra cosa. Osservate che cosa succede? Supponiamo che il cambio di patente sia il senso, cioè allora non c'è nessun cambiamento di fase. Che succede? Semplicemente che l'influsività è uguale. Quindi si richiede il solito problema di diffusione, la cosiddetta condizione di distrazione che impone che, qualora ci sia un salto anche nella diffusività GK, attraverso la superficie, il salto non diffusifica, semplicemente la temperatura è costante, scusate, è continua e anche i flussi sconti. Qui invece la temperatura non dovrà essere continua, perché noi, osservazione, dobbiamo rinforzare su curve che il teta di S di più e anche il teta di S di meno, cioè siamo zero. Questo è, questo è, fa parte appunto dell'antena di via, del cambiamento di fase, il cambiamento viene anche quella temperatura non è più, e dunque la continuità della temperatura ottima è efficace. Però il flusso non è più nuova, è quella, ma il flusso che fa pezza, diciamo così, viene convertita in cambiamento di fase. Quindi, matematicamente, in questo termine è l'eperese punto, l'eperese punto. alla fine, di eccelluno, quindi abbiamo이에to il periodo di statistica, viene letto, usualmente, la legge di Stephan. Stephan era un apostolato striago che,ydi il signore portomano i nostri appartamenti del XIX secolo, formalizzò questo argomento, appunto non fu neanche il primissimo a studiare, ma diciamo, un errore matematico del spagnamento usato è troppo, insomma, basso più numeri di legge di Stefano, e di quella di Stefano in generale, non è qualche esempio. Dunque, perché questa si chiama una, diciamo, una condizione di frontiera libera. Allora, per far questo non viene specializzata, ma anche con il nostro problema, ma ha un problema un po' più semplice di quello che scriveremo più tardi, che è il cosiddetto problema anofase. Diciamo, questo che ho descritto ora è un problema anofase. Si chiama problema anofase. Se, evidentemente, θ è positivo, non, no, perché c'è l'acqua più per essere e θ è l'acqua più per essere. Se, in un modo amato così un po', come dire, in gammio, la temperatura è zero in una delle due fasi, quindi, sì, il problema si chiama a una fase. Quindi, se, per esempio, θ è positivo in a uno, ma θ è zero in a due. Questo vuol dire sostanzialmente che c'è x, qui c'è il tempo, con la rotazione. Quindi, quando si chiama a una puntua che avanza, x vuole s, qui, quindi qua θ è identicamente zero, mentre qua θ è positivo. Questo si chiama problema anofase. supponiamo che, per esempio, su questa frontiera venga assegnato un dato che è atteso, θ uguale a c'è il potenza zero, un dato di utilizzo. Naturalmente, dentro il dominio ci sarà la condizione c'è il potenza zero, quindi l'equazione del calore del dominio. All'istante iniziale c'è che ci sarà una iniziale, data iniziale. E sto costruendo, come vedete, il usuale problema per la fondamenta iniziale e la data in aziendoni, per l'equazione del calore del dominio in una direzione spaziale, che è una cosa costante, data un po' di un dato iniziale e ci parliamo. E qui, sicuramente, θ è zero. Tanto a destra, a θ è valoso. Il problema è trovare la sinistra di x vuole s. Ah, θ è zero. Basta questo per risolvere il problema? Ovviamente no, perché io potrei prescrivere una curva qualunque un x vuole s. Qualunque, per esempio, una distinzione che ferma, prescrivere θ uguale a zero su questa curva per risolvere il problema di dividere. Giusto? Quindi, data un x vuole s e pi a sto per risolvere il problema. Naturalmente questa non è una soluzione del problema a fronte alla libera di semplice, c'è un tipo che non viene soddisfatto dalla legge di Stefano. Se prendo, per esempio, s uguale a zero, che vedete, s uguale a costante, scusate, s uguale a zero e quindi vedremo che la x, certamente, non è zero e dunque perciò. Allora, cosa vuol dire questo matematicamente? vuol dire che questa frontiera è all'instante iniziale, diciamo, scusate, è incombita. Fa parte dell'incombita del problema. Quindi, dal punto di vista matematico, il nostro problema, il problema matematico, il problema matematico, il problema matematico, il problema matematico, ha per un contente non solo la θ, non solo la θ, come ci si aspettava naturalmente un problema con l'equazione del cambio, ma anche la θ e anche s. Quindi anche una parte della frontiera dell'indominio è incombita e perciò questo si chiama il problema della frontiera libera, perché una parte della frontiera non è nota, non è assegnata all'instante iniziale, in questo senso è libera. Osservate che c'è una certa differenza che c'è un problema con la frontiera libera, perché io potrebbe scrivere, quindi non lasciare libera, ma assegnare una funzione Svv, non costante, quindi questa sarebbe per il dominio una frontiera libera, che dipende da che, però la stai mettendo. Invece in questo caso la frontiera non sono mobile, ma è proprio incombita. Quindi questo è il motivo per cui questo problema si chiama la frontiera libera e sono posto in un dominio che ha una parte della frontiera in tutto. Tra l'altro, diciamo anche se il problema fosse a due fasi, questo non cambierà molto da questo punto di vista. Di caso la fase è ancora più chiara cosa, perché in effetti ci possiamo restringere, ma considerare che il problema non solo con la θ a sinistra di Svv e quindi questo è chiaro che il dominio di questa funzione della θ definita dell'alto, diciamo, da parte della parte. Quindi in realtà quello che si deve fare è, per determinare questa frontiera libera, è imporre contemporaneamente due condizioni, si integra con la zero e con la condizione nessuna. Quindi la frontiera è libera, ma abbiamo speranza di identificarla, perché abbiamo, non dalla normale unica condizione di burro come le problematiche di Nero e della Talla di Nero, in questo caso è benedibile, ma abbiamo due condizioni di burro, che ovviamente sarebbero troppe se la frontiera fosse fissata, ma visto che non è fissata, è proprio quello che ci vuole per identificarla. Quindi questo è, diciamo, come inizio di tutta la storia, questo è da dove partiamo, come mai il problema esiste. Allora, io farei così, diciamo, l'idea, spegniamo ancora una parola sull'idea usata proprio su questo problema. L'idea è questa. Io considero, parto da un assegno, un dominio, quindi una frontiera, un'idea, chiamola sempre libera, S st. Risolvo il problema per il problema di T3, quindi con un'idea asterisco con a zero, 8. Naturalmente questa non è una soluzione del problema di Stefano, però definisco un S doppio asterisco con, beh, semplicemente una legge di Stefano, quindi lo definisco come meno K1 metà di T3. Dopodiché questo S doppio asterisco lo uso per costruire un altro problema che mi darà un'altra peda doppio asterisco. Cioè definisco un trasformato. È chiaro che se questo è stato trasformato a un punto fisso, cioè si scopri che S asterisco uguale a S asterisco, allora, come temporaneamente T asterisco zero, ma anche S asterisco punto uguale a eccetera eccetera eccetera, che è stato fisso con le giuste, infatti S asterisco uguale a S e quindi ho trovato la soluzione. Se è per questo, questa è la soluzione. Quindi, diciamo, da un punto di vista la tematica di questo approccio, questa che chiameremo per poi la formulazione classica, unidimensionale del problema di Stefano, questo approccio, praticamente il problema si si affronta come una tecnica di un professore. Quindi questo è il modo classico di affrontare la seconda. Quindi la prima parte del corso sarà dedicata a far vedere come si lavora in questo senso. Tra l'altro, è chiaro che probabilmente le competenze nell'ambito delle funzioni che sono diverse, quindi nonostante sia abbastanza limitate. Perciò se ci sono, diciamo, se preferite, magari con la prima introduzione, se preferite che faccia una cosa piuttosto che un'altra, o che mi soffie su un punto piuttosto che su un altro, naturalmente un tipo di una, un'altra migliore. Ok, il, diciamo, il tempo però, questa prima parte è sicuramente classica, perché non si parla per vedere un po' come si procede. Devo dire un po' di me che, come credendo, è un problema classico, unidimensionale, è abbastanza semplice. Il problema, più che unidimensionale, cioè il problema multidimensionale del Z3, per esempio, della fisica, è molto complicato, perché effettivamente abbiamo a che fare con una superficie invece con curva evidentemente, e insomma ci sono complicazioni anche tecnologiche, la superficie può chiudersi su se stessa, eccetera, eccetera, no? Si possono creare delle visore di viaggio staccate, e a parte anche quelli che ci sono comunque complicazioni tecniche che in effetti sono, in effetti sono montagli, ma furono, diciamo, risolte solamente nella seconda metà, avanzata la seconda metà del secolo scorso, e diciamo, non mi sembra sapere che il caso di affrontare questo sono solito, l'admustrazione esiste, dalla fisica un certo sindrome di Irmanov, non russo, a zero, e però è veramente abbastanza complessa sul piano di Irmanov. Va bene, allora invece noi affronteremo specificamente questo problema, un problema che può venire a dimensionalizzare. Il problema dimensionale è questo, quindi scriviamo un T, le Q è la temperatura dimensionalizzata, quella che è il primo al tema di Irmanov. Allora, il T meno X, diciamo, zero. Dove? Il Q e S e D. Q e S e D. Q e S e D è dato da un X che stanno un 0 a 0, S e D è dato da un 0 a 0 a 0 a 0 a 0. Poi prescriveremo un dato di noi, per esempio, sul Così, per x tra 0 e p, diciamo che p sarà la protezione iniziale della frontiera libera, e poi la forma di ottenere due protezioni della frontiera libera, u di s, p e di 1 da 0 e ux di s, p e di uguale a regola dimensionalizzata, a meno s1. Quindi, in disegno, qua 1 è 0, ux è meno al secondo, qua mi stanno iniziando 1 è 0, ux è meno al secondo, e quindi, la solide relazione del calore. Questo è il problema che sto mostrando in questo momento. Vogliamo risolvere questo problema. Se s fosse assegnata, potremmo facilmente risolvere abbastanza regolare, ovviamente s, diciamo, che sia logiziale, potremmo facilmente risolvere il problema con una di queste due convenzioni, sarebbe un problema a scala, da voi, 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 da voi. Il problema è affronteva liberare, per questo problema è molto semplice. Permanente, nella loro formulazione classica, conducono, preso tenere, indirisabilmente, una considerazione abbastanza raffinante di regolarità di soluzioni di equazioni paraleloiche, che in dimensione 1, ancora, ancora, si riescono, in qualche modo, a vedere con una cerca, diciamo, o se non facilità, con una cerca di ragione di riqueza, anche se io non lo farei uguale a questo corso, ma diciamo, per esempio, ecco, un, cominciamo così, diamo una definizione precisa di soluzione. Cosa intendiamo di soluzione? La soluzione, in un punto di questo problema, definizione di soluzione, quindi una coppia, attenzione, che può essere, si dice soluzione, quello che noi, precisamente, cerchiamo, è questo. Allora, U deve essere, beh, continua, evidentemente, nel dominio UPSP, deve essere C21, nel dominio aperto UPSP, C218, quindi, ovviamente, è una mutazione che si trova spesso, quando si parla di equazioni che prendono la variabile del tempo, di soluzioni, per esempio, della variabile del tempo. 2212, che continua comunque, insieme alle sue due prime derivate rispetto allo spazio, questo punto che non lo fa, e alla sua prima derivata rispetto al tempo, presso le derivate, in realtà, in un paio, in una equazione, in realtà, poi, è C-infinito, perché risolve l'equazione dell'interno dell'esimo. che si risolve sia C218 che C218, comunque. E poi, naturalmente, ci deve essere una punizione di continuità per UX, perché UX, se non è continua, non saprei in questo momento, con quale significato attribuire alle due condizioni che la coinvolgono a su un volto. Quindi, sarà continuato su SD. Al massimo, posso permettermi che non sia continuato, perché, tanto, UX non compare alle condizioni del problema. Quindi, sicuramente, da U in questo modo è sistemata. Quindi, tutte le condizioni che riguardano un lavoro, possono essere intese nel senso classico, come sono scritte, nel senso puntuale. E poi, c'è la S. Allora, la S deve essere una funzione C di 0, che è lì, continua di 0, che è lì, naturalmente. E, in realtà, diciamo, evidentemente, se S' uguale a UX, vuol dire che è C1, perché UX è una funzione continua. Quindi, C1 di 0. All'istante iniziale, potrebbe, in teoria, non essere e non essere continua, perché la condizione qui, secondo la S, potrebbe non essere mega, diciamo, di scala iniziale. Quindi, da S, le abbiamo date in questa classe di regolarità, e, naturalmente, ah, questo lo posso scrivere proprio qua. Anzi, ma, questo fa parte del problema. S di 0 per S di B. Quindi, naturalmente, ho fatto riscrivere S di 0 per S di B, che è un numero assegnante positivo, e le condizioni assegnate, le condizioni sopra, valgono il senso classico. Conoce a te. Senso classico, in due agganze tra tutti i motivi. il 0 per S di B. Come? Il 0, cioè, da C1, che considera? Il 0, da C1, che considera? Il 0 la finiziamo, però, lo assegniamo, diciamo, nel contese solo. Dunque, come dicevo, in realtà noi avremo necessità di prendere S in una classe di funzioni del termine diverso, cioè in una classe di funzioni del termine diverso. Vale un tema di questo genere. Se S è un ingiliziano e U soddisfa, il problema, a parte la condizione del termine diverso, quindi diciamo, abbiamo un nome a questa condizione. Sopra 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi la quinta e l'ultima è la condizione di fronte a lei. Quindi se S è un soddisfa anche solo 2 e 4, non l'ultima, allora se S è un soddisfa 1,4, allora in effetti Ux è continua fino a su. Quindi x uguale S. E' più così. E' un risultato abbastanza raffinato, in realtà, dicendo che perfino se questo contorno qua ha uno spigolo, quindi non ci sia, naturalmente, la 1x uguale 2 continua fino fino a 1. La dimostrazione è tra l'altro questi appunti del corso, che poi mettono su qualche sito, e comunque ce l'hanno stampato, se volete, non lo vedo. Però è una condizione che riposa sulla teoria generale del concetto di rapporto, che poi è una condizione umana. Ecco, secondo me, quindi sono risultati abbastanza raffinati. Dunque, prima di iniziare l'analisi con le mani di crescita, stabiliamo le due dimensioni. Noi stiamo considerando che il problema non lo fa, non lo direttore. Perché noi supponiamo, quindi, esso di un testo, che Ux, cioè la temperatura a dimenzionalizzata, sia sempre in 0 o a destra di S di T, quindi non lo scriviamo neanche, ci lo dimentichiamo, perché lo scriviamo in quella nuova fase, il vantaggio che abbiamo è che cominciamo a studiare il problema solo da un matto, di S, quindi quello che succede di qua, è banale, non è sempre in 0. Però poi ci dimentichiamo, dal punto di vista fisico a destra, c'è questo chiaro che ci sta avanzando l'acqua. Quindi, se quella è acqua positiva, che è la temperatura positiva che deve avanzare, è abbastanza annullabile, che un 0 sia maggiore o uguale di 0, e è necessario, per motivi tecnici, almeno nell'approccio semplice, se vediamo qui, che sia in uguale di A per il numero di S, cioè che sia un giziano in B. In B deve essere un giziano, non è in quel punto di B. Questo un po' si intuisce, cosa vuol dire? Vuol dire che la sua derivata, chiamiamola in quel punto, è infinitata, e quindi S parte con velocità finita, altrimenti dovrebbe partire separata, con velocità infinita. Questa è l'idea dell'ultimo tecnico per questo. E l'oltre con 0, deve essere continua dalla 0 di B. Ah, questo è standard, naturalmente, perché altrimenti se non fosse continua, di certo un problema, una soluzione per la differenza. non l'uomo ad un altro è H, H di Gb. H di Gb deve essere positivo omega di O, perché per essere sicuri che la temperatura si mantenga positiva in, 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 di là, nel suo domicolo, secondo voi. Allora, se l'ho chiamato meno H, dovrebbe dire H dovrebbe essere così. Allora, perché questo? E' chiaro che se io sono certo che, lo spiego qui, comunque H dovrebbe essere 0, eppure H dovrebbe essere continuo dalla 0. Allora, questo garantisce, queste ipotesi garantiscono la prima grande trovata dell'approccio che faremo, che l'industrieremo ora, alla prima grande trovata. Cioè, delle stime a preuvi, utilissime, nel senso. Posso essere così? Sì. H grande? H grande è nulla. Sì, non lo devo. Sì. Lo scriviamo, ah? Per una grande costante positiva. Gli effetti, su questo farò poi nei commenti, comunque, non è, diciamo, se anche la luce se non fosse discontinua, per esempio, non fosse 0, tra entesi con le ipotesi, garantisce che il 0 di D è 0, non è differente, perché è schiacciato tra 0 una cosa che non fa 0. Se anche il 0 di D fosse 3, la soluzione ci sarebbe lo stesso, però sarebbe più difficile da dimostrare invece. perché, in effetti, la, la cosa, la, la, il, ripeto, la S partirebbe sparata. Come vorrei prendere un esempio. Ehm, tra l'altro mi affrontano due esempi espliciti di soluzioni di questo problema. Prima, però, come detto, semplicemente dire, fare questo, questo commento su queste semplici, come conseguenza, diciamo, la conseguenza delle nostre ipotesi. Ehm, se un risolto 1 o 4, sono tutte le ipotesi di D, quindi non è una soluzione del problema di Stefano, anche perché la 5 possiamo anche ignorarla, ma se un risolto 1 o 4, allora è vero che Q è positivo di Q di S di D, e Q di S di D è negativo. Perché? Di F di D. Beh, il fatto che U sia positivo sembra anche un ciclo di massa forte. che non so se tu non lo scelgo o no, questo è un'altra parte che è uno degli appendici degli appunti del corso. Il principio del massimo di fonte dice che la soluzione delle corso elettorone prende il massimo sulla frontiera parlorica. E lo prende solo sulla frontiera parlorica. Perché se lo prende dentro, allora là è un punto, per esempio qui, allora è costante in tutti i punti che stavano osservi. Siccome questo che uno può agarire, perché, in realtà, non l'ho detto, diciamo che supponiamo che h non è eletticamente lungo e che 0 non è eletticamente lungo, allora è chiaro che se questo fosse meno la lus sarebbe costante lungo, e quindi userebbe 0, questo non è costante. Quindi sicuramente il massimo, il minimo, questo è il massimo, il minimo non è raggiunto all'interno, sicuramente il minimo è 0, perché chi poi mangia un po' è di 0, allora, allora, questo progetto è estrettamente positivo. Questo è come mai il minimo può essere raggiunto qui. Lemma di Of, Lemma di Of dice che se qui fosse raggiunto il minimo e che parte dovrebbe essere estrettamente positiva. Lemma di Of è uno di quei risultati della famiglia del principale massimo. Lemma di Of dice che una soluzione è dell'equazione del valore. se raggiunge il minimo qui, allora è ovvio la costruzione dell'equazione del valore non ho, se parte da qui e c'è un minimo, non può che partire a crescere. Però questo potrebbe anche indicare che non c'è, esistono delle soluzioni, basta pensare a una parabola che hanno un minimo e nel cui minimo la derivata è 0, perfino se è un minimo sulla frontina. Lemma di Of dice che questo non è possibile problemazione del valore. Cioè, problemazione del valore, la soluzione del valore. Se parte un minimo sulla frontiera, se parte un minimo sulla frontiera, la Ux in quel punto, la derivata è estrettamente positiva. Bisogna partire subito il saluto, ma non si può parte un piatto. Questo è un grande sceglie del maligno. Quindi il minimo non c'è, perché la Ux non è estrettamente positiva, il minimo è uguale di 0, e quindi non è semplici un minimo, il minimo è raggiunto un minimo, cioè il minimo è 0, perché un 0 è uguale di 0, e la Ux è estrettamente positiva. Quindi diciamo che la A segue la principi massi, forte, forte, più Lemma di Of, detto anche il principi del punto di frontiera, come volete. Invece la B, la B segue, la B segue direttamente da un minimo off, segue direttamente da un minimo off, perché se, allora, su questa frontiera, U0 è un minimo, quindi la derivata deve essere spetta. Potrebbe cambiare la reazione a un minimo, ma non può, perché la soluzione deve essere spetta. E dunque, inizia strettamente negativa, deve essere spettamente negativa. Da questo imponente, questo minimo, ma di seguito il problema, che se US risolve 0,5, cioè che è una soluzione completa, solo 0,5, allora, è diventare S'V è positivo. S'V' è davvero positivo, perché S'V' vale almeno X, e X è negativo, quindi S'V' è positivo. Questi primi risultati, però sono diversi risultati a priori, diciamo, che esistono a priori, perché garantiscono che questo problema fa davvero quello che insegniamo qua. Cioè io parlo con una temperatura positiva, continuo a buttare dentro calore, quindi continuo a riscaldare, e cosa fa l'acqua? Ovviamente scelgo il ghiaccio. Non è che succede viceversa. Quindi la frontiera che si fa l'acqua e il ghiaccio, avanza dal ghiaccio. Quindi questo, da questo punto di vista, il modello è chiarissimo. Almeno questo, lo fa. Sì, l'acqua c'è un ghiaccio. Va bene. Ehm... Diciamo, continuiamo, scappiamo la lezione, facendo due esempi espliciti di istruzione. E sono, tutto sommato, inframe più interessanti, dal punto di vista, anche il ghiaccio. Il primo, è un esempio che si basa sulla cosiddetta ero-francio. Non so se è una pratica che sembra interessante. L'ero-francio è una funzione che si chiama così perché ha, che divide con la teoria degli errori, naturalmente. Definiamo, un esempio. Esempio, l'ero-francio di z è due, costituzionatrice più diretto, per un'ulterranea, per un punto sempre se è più a zero di finisio, no, più a zero di z, quindi, di e almeno s e s funziona. Il caso di usato, lo diciamo, da un po' di canna, da un po' di un po' di a meno. Questo è il bel uffaggio. Naturalmente, e, come vedete, questo che è il mondo si eseggia la differenza. E andiamo comunque a guidare la classica gaussiana, anche su tutta la strea, la lettica della regione più. Va bene, la cosa curiosa, la proprietà notorissima del double function è che questa funzione, cioè il double function di x su due lecce di y, quindi risolve vt meno x, un po' da zero, è una soluzione dell'equazione del calore, logicamente. È una soluzione dell'equazione del calore, e che cosa ha a parte una soluzione dell'equazione del calore? Vediamo, guardiamola al primo quadrato. Allora, quando x è zero, evidentemente u è zero. E quando x è zero, l'integrosa zero è zero. Quando t va a zero, il secondo estremo va all'infinito, quindi l'errofancio è un po' uno, e perciò, in realtà, è la relazione del calore. Quindi questa è la classica soluzione dell'equazione del calore, con dato che salta, prima di scattivate. Questa soluzione, in realtà, è anche una soluzione di un problema tipo Stefano, tipo quello là. si vede, sostanzialmente, vediamo come si fa a costruire. un problema. Ehm... qua. Vediamo, appena, come dicendo. Nella termina è semplice. 2. comunque, si prende e sostanzialmente si... Diciamo che u deve essere una costante per l'errofancio di alfa meno u. Quindi vediamo 2 sull'errofancio di alfa meno u. Quindi vediamo 2 sull'errofancio di alfa. Ehm... Ehm... Allora, l'altro è la soluzione dell'equazione del calore, quindi almeno su questo non si discute. Ehm... 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 Poi, la u è 0. Dove è 0? Ehm... Ehm... Scusate. Ehm... Per x uguale a 0 vale c per l'errofancio di alfa. E' su questo primo presunzione. Quindi è un dato di riflessione su questa, su questa manchiera. Fissa. Qui c'è un asse di tempo, qui c'è un asse di tempo. Ora, dov'è che è 0? Ehm... Da u è 0, evidentemente, dove x su due radice di alfa, eh? Ehm... E' chiaro? 1 è 0, senso, se x su due radice di alfa. Quindi, x uguale a 2 è alfa da l'errofancio di alfa. Ehm... Ehm... Una parabola. Fatta così. Certo, una parabola. Ehm... Questi. x uguale a 2 è alfa da l'errofancio di alfa. Ehm... Che è proprio la nostra fonte di alfa. Dentro il quadro dell'errofancio di alfa. Ehm... 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 La, la... E' soddisfatta anche quella che come è il suo gerano. Quindi, effettivamente questa è la soluzione problema di Stefano. Vedete? Manca, diciamo, un P in zen, eh? L'interpretazione di prima di a zen. Quindi manca, diciamo, la parte iniziale di alfa. In questo caso si apre, modellisticamente, uno strato di ghiaccio, a contatto con un eservatorio di calore, come si dice, a temperatura positiva, mentre il ghiaccio non ci asciugna, si improvvisamente, e parte, infatti, questa velocità di scendimento iniziale è finita, quindi che S'è punto all'istante iniziale è un musulmane di scendimento. Quindi, questa è la nuova situazione. È interessante osservare che, appunto, in un momento qua, con una temperatura fissata, la frontiera piega in questo modo, quindi avanza, continua ad avanzare, come dicevano i risultati precedenti, i vestiti al primo, continua ad avanzare, però in modo sempre un momento, ma sempre un piano. Perché? Perché la diffusione funziona così. e quindi la funzione è molto meglio il calore che c'è qua e non si stava a testa da terra e tenere. Lo diffonde, lo spazio c'è nel mezzo, perché il tetto ci vuole, e quindi la frontiera più avanza, ma sempre un momento. un'altra soluzione, diciamo, che ha costruito questo schema, perché c'è un po' tutta questa lavagna, ma poi andrà che accetta, un'altra soluzione, anche più semplice, è questa. un tipo di Squeeze urgente. Vote il Quadro E, un verdadelloots, non altro animalico, in cui la regionatura è, con semplicità di esalarmare, la regola di suola t. Ficcino nella scuola t. Si vede abbastanza facilmente, che è effettivamente che ilunction più uguale a New darNDX, Qua un, per esempio, è, penso, 3 al più meno 1, voi se preferite potete fare la derivata. E effettivamente qui vale che 1 è 0 e che 1x è meno s'ulto. Bene, quindi questo è un caso in cui, osservate, la frontiera va avanti in modo lineare. Quindi non è vero che questo non è vero, ma non è vero, ci dobbiamo mettere qua un punto di causa che aumenta la temperatura di tutto più la temperatura esponenziale. Quindi per riuscire a mandare è direttamente alla frontiera, non per riuscire a mandare la temperatura esponenzialmente. Quindi, effettivamente, questo fa capire che per i dati limitati, la frontiera è fatta così. In effetti si può dimostrare un risultato, si potrebbe dimostrare un risultato, diciamo, di conversità della frontiera. Cioè, in effetti continuo a disegnarla così, in questo caso, va bene, una parabola, ma anche prima, non sempre disegnata così. Perché l'andamento che ci si è aspetto è davvero fatto così. Non che sia complessa il senso rigoroso di avere questa parola avvenso un avventamento, diciamo, simpatico. E questo è un avventamento che mostra questo effetto dell'avventamento che viene messo. Va bene, dunque... L'ultima cosa che dovremmo rimancare, perché è già arrivata nella prima definizione, è questa osservazione. Il problema è, fortunatamente, ma la rispetta, effete, non linea. Che vuol dire questo? Perchè, se noi guardiamo le condizioni da 1 a 5, queste sembrano quelle classicamente stabili. L'equazione di linea è stata l'equazione di Torpescana, di miliardi e miliardi. E anche, appunto, se siete al conto, la vendita, il dato a destra, sulla frontiera libera, non potrebbe aspettarsi qualche cosa di peggio, è addivittura a 0. Quindi, da subo, addivittura a 0, fa addivittura a 0. Perché non lineare? Ma, naturalmente, non lineare perché lo stesso contorno, lo stesso dominio dipende da A. Quindi, se io cambiassi i dati di 0 e A, esse cambiano. Per esempio, in questo caso, se io ho al posto del dato che è il punto qua, che dipenderà da C e tra il verso di A, il primo momento che il 2 è la 1 scelta, in realtà, comunque, il 2 è la 1 scelta. Quindi, se cambio il dato, non è vero che la nuova frontera libera è, che ne so, il 2 è la 2 scelta. Quindi, diciamo, la non linearità sta nel meccanismo che permette agli elementi di passare dai dati alla frontiera libera. Il modo in cui la frontiera libera è scelta dai dati è non lineare. E quindi, naturalmente, il problema è non lineare. E perciò, diciamo, questo va sempre molto presente. Non si può pensare che una sola in quali soluzioni sia soluzione, a parte il quale numero, visto che i minimi saranno diversi se le soluzioni sono in frontiera. attraverso. Un'altra osservazione che volevo fare, che potrebbe anche essere un esercizio comunque, che succede se un è in grattino. Allora, facciamo questo esercizio di, diciamo, operazione del base parziale di elementare. Supponiamo, in cui il problema è l'assunto, che H invece di essere positivo sia negativo e che 0 sia negativo. Si vede che ferro e sangue, che vanno da 1 a 4, vanno, che da 1 a 2 è negativa, esattamente non è più. Usando il principio del massimo, forte, l'arma di olfala è negativa. Quindi avremo a che fare con l'interpretazione economistica, sapete, qui hai il ghiaccio, perché è molto negativa, di qua hai l'acqua a temperatura 0. Allora, se io metto il ghiaccio a temperatura fortemente negativa, in un servatoio di acqua a temperatura lunga, che cosa non mi aspettate? Siamo nell'alto, la temperatura è a 0, dell'acqua, anche meno nell'alto. Come è in segno? Facciamo che è in segno. Ci metto un iceberg fortemente sotto l'affreddata, a temperatura a meno 50 grammi, perché non prevedeva la sopravvola, quando si pede. Che succede intorno all'iceberg? L'iceberg si scioglie e un ghiaccio all'acqua al centro, ovviamente ghiaccio all'alto al centro, ricorda che quello è già a 0 gradi, quindi non ha nessuna possibilità di sciogliere un ghiaccio. Non ha l'evoluzione da spendere nel scelto di un ghiaccio. Eh, vediamo invece che succede qua. Se U è negativo, Ux è positivo, giusto? Quindi S è il punto immigratore. Questo prescrive, e come è, così come è scritto qua, prescrive che invece questa condizione va piena curiosamente descritta come Diceberg, eccetera. Ma invece scioglie, perché S è il punto immigratore. Cosa c'è di sbagliare? Eh, non puoi sapere che il problema di Stefano, il problema di Stefano, il problema di Stefano, funzioni solo come uno scioglimento del ghiaccio, con il confinamento del ghiaccio, quindi ci fai qualcosa che... Cosa c'è qui in un punto? In realtà, quello che è nascosto nell'argomento che abbiamo fatto noi, è che, appunto, il nostro ragionamento, fin dall'inizio, fin dalla prima cosa che ho scritto, presuppone che noi sappiamo che l'acqua liquida, una faccia è a sinistra e l'altra a sinistra. Se io ho messo a sinistra e ti ghiaccio a destra e l'acqua a sinistra, avrei comunque la stessa condizione che ho trovato prima, quella come il 2θ, θdx, dsq, 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 con un segno cambiato. Invece di lsq uguale, ho trovato meno lsq uguale. Perché? Perché se s avanza mezzo destra, ora, non è più calore che viene assoluto, ma è calore che viene assoluto. Perché se il ghiaccio che avanza, il calore esce. Quindi, diciamo, la formulazione classica del programma di Stefano, che noi lo abbiamo visto subito, deve sapere a cui da che parte sta l'acqua e da che parte sta il ghiaccio. Quale delle due fasi occupa quale delle due zone, a destra o a sinistra della frontiera libera. Altrimenti, si raggiunge in una... si raggiunge in una... diciamo, un problema sbagliato, però è un problema. Ora, ora, la composizione non va anche più raffinata. Potrebbe dire, va bene, ma allora, torniamo a un altro caldo e supponiamo che qui c'è l'acqua. Tuttavia, si sa, non so se voi lo sapete, ma è così, che il cambiamento di fase, in generale, avviene non alla temperatura nulla. Ma quest'ultimo parco è il ghiaccio, l'errore, l'errore... ma prevede un certo sottoraffreddamento. Cioè, l'acqua prima va sotto di zero per la maniera per essere effettivamente lungente. Questo sottoraffreddamento, in teoria, il momento di Stefano, che potrebbe anche essere... nessuno mi imparisce di sottoraffreddamento. Vado a sottoraffreddamento. Ora, questo è un discorso molto complicato, diciamo. Ehm... Secondo, discuto che se il modello di Stefano, in questo caso, resta veramente valido, e no. Comunque, non metteremo in questo... in questo... in quest'anno. Diciamo che il principio di cui il problema matematico, così come scritto, è stensato perfino se 1, è indirizzato da 1, la situazione 1, è indirizzata. Naturalmente non vado con le stimmatricamente, quindi non vado. Però il problema è stensato, lo si può comprare. In effetti si potrebbe vedere che può essere giustizioni oppure no. Mentre, in questo caso, sotto le cose di esempio scritto prima, la situazione c'è che non si può comprare. Se da 1, non è detto che la soluzione ci sia. Non è detto che la soluzione ci sia. Quindi, insomma, diciamo, è un problema che è stato un complesso attualmente. Però non ci occuperemo, perché non ci occuperemo oggi. Va bene. Cominciamo questa dimostrazione dell'esistenza e della soluzione. La dimostrazione, come semplicemente ho detto prima, consiste in un argomento, un punto fisso operato sul contorno. Adesso si parte da un contorno. Così trasforma un altro contorno. E, come vedremo, se questa trasformazione ha un punto fisso, quella la soluzione. Ad esempio. Ma ora, per fare questo occorre un lemma, che è la famiglia di questi primi, ma bravo raffinamento di questi primi. Definiamo la costante m come il massimo fra la norma del definito H piccolo e H piccolo. H piccolo, come date, quella costante che appare nell'ipotesi sul dato iniziale del secolo. Dunque, va bene. Allora, detto questo, lemma. se un sottissima con quattro, allora, un dei sottissimi, non solo per questo tipo dentro di l'opinione, cosa dobbiamo capire, mentre in un quale viene, per essere, in un s. quindi, di conseguenza, una dimostrazione di questo, banale, che è ux di s di e t, è il nore di zero, però, per questo tipo, beh, se chi, il nore di zero, per esempio, no? ed è maggiore un quattro, e poi un'anima. Perché? Che vuol dire, che mi sembra? Quindi, magari usiamo anche un po' di esercizio, perché stendiamo numerosi, c'essi. A1. Qua c'è il suo, anzi. Qua c'è l'1. E qui c'è questa barriera, lineare. Questo è m, s, x. E' chiaro che, la derivata, x, non può che essere più, maggiore uguale di, la derivata, da questa funzione, che sta sotto, che è quello m. E quindi, da qui, seguiamo, questa. Quindi, questa, questa stima qua, questa particolare, in realtà, dice che la 1, si avvicina, a s, abbastanza rapidamente, e quindi, la sua derivata a s, è la taglia di trattazione. In questo momento, dei momenti, importanti. La dimostrazione. La dimostrazione è, piuttosto semplice. Do un momento. Scusate. Qua ho dimenticato un pezzo di, s, o per 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 s. Allora, quindi, definiamo, 4, o, m, s, e, e confrontiamo v con una u del nostro dominio. Per priorità disegno il problema che sono trovato invece di scritto il prodotto. Allora, quanto vale vt-vx? Vx-vx fa 0, vt fa ns1 e per ipotesi fa 0, questa è ipotesi. Questa è l'ipotesi, tra l'altro, che fa la differenza tra il caso normale e quello sotto raffreddato, dove u sarebbe negativo. Se u è negativo, s1 non può essere sempre positivo e questo è un'ambulazione. Quindi, questa stima su x non vale. Infatti, è possibile che un x si impegni, diciamo, vada ai fondamenti infiniti. In questo modo, questa questione tecnica, se s. può diventare negativo, allora u x può esplodere a meno infiniti. Vabbè, quanto vale vt qua? Vx qua è meno n, che è la valente meno uguale meno h. attenzione. Attenzione, come fa se incarnavi la valente meno uguale. Vx è meno il flusso. Vx uguale meno n uguale meno h. Non vuol dire che, sostanzialmente, la u. Scende più di u. Scendendo più di u vuol dire che ci sto buttando dentro quel calore. Scendendo più di u. E all'istante iniziale, due, evidentemente, n, per s di t, no, da, per n, no, x, che per ipotesi è una scelta di n maggiore uguale di u. Dunque, per il principio di massimo, per il principio di massimo, per il principio di massimo. Effettivamente, qui c'è una scelta di u. Il che? Perché posso applicare il principio di massimo? Per il principio di massimo. Allora, data l'u. Anzi, prima di fare l'equazione. Vt meno x, x è positiva. Vt meno x, x è 0. Quindi, qui, va bene, non c'è una scelta di differenza. Dunque, non. A, quando c'è altro, per il principio di massimo, è positiva. Qua, il dato, la derivata ha il segno giusto, diciamo. Per esempio, vedete, per usare la mani off. I dati iniziali sono ordinati nel modo giusto. Poi, iniziali sono il più grande del punto di u. Su questa frontiera sono qua. Fino a te la scelta. Questa, che si chiama, classicamente, una funzione barriera. La funzione barriera, effettivamente, fa il suonore. Il risultato è maggiore uguale di u. Quindi, qui va con la buona sguaglianza. E, di conseguenza, la seconda ruota è la volontà. Attenzione, è importante che, in questo, in quest'ambito, possiamo prendere S, che è giudiziale, e non giustiziale. Allora, uno potrebbe dire, va, che continua, da quale una funzione, una soluzione dell'equazione del valore, con soggetti M, S, punto, non continua, quindi discontinua, perché, se S è giudiziale, S, punto, con una funzione discontinua, più limitata, allora discontinua. È vero. Quindi, si dovrebbe dare una interpretazione un problema di questa equazione qua. Perciò, nel massimo, ad esempio, su questo non vi voglio da soffermare troppo, diciamo che, per esempio, possiamo preparare una interpretazione di questa, di questa, di una soluzione, di questo problema, nell'ambito degli spazi che sono. Si potrebbe scrivere una soluzione usando una formulazione regola, tipo quella che voglio buttare, tipo il problema di sistema stesso. Comunque, lo ripeto, il principio massimo vale sempre. Il principio massimo vale sempre. Quindi, diciamo, il tema, questo non è particolarmente difficile, prima commentavo che i risultati che si usano tecnici, che si usano nell'ambito dei problemi di fruttura libera, sono, effettivamente, abbastanza complesse. Però, questo è un regno, quindi, in fondo, in questo modo, questo si fa abbastanza facilmente. Comunque, alla fine, quello che ci interessa è questo problema qua. Questa stima a priori, diciamo, della Ux, purché s'è punto, siamo aggiornati di zero. Osservate che s'è punto è una funzione, purché è anche derivata ad aggiornati di zero. di fruttura, comunque, non si comprono altre, altre cose. La funzione di fruttura, non deve riuscire. Non deve riuscire. Va bene. Allora, vediamo un attimino come, finalmente, di mettere in piedi questa trasformazione funzionale in cui il punto fisso ci darà la soluzione di un punto fisso. Dunque, quando si fa un punto fisso, bisogna scegliere tanto per cui c'è l'insieme. Come si fa un punto fisso? L'insieme, tra cui parte, e in cui arriva, la trasformazione. quindi, noi, questo insieme, lo identificheremo in questo spazio sigma che è dato alle funzioni sigma merciziali su 0 e 0, tali che sigma di 0 è quindi e sigma punto sta punto da 0 e n, se non abbiamo le domande, la definizione è esattamente questa serie. Esattamente. Quindi, sono, diciamo, funzioni non decrescenti con derivata la limitata a quella n, la n è una linea, questa è una fissata per tutte, che parte da 1. All'interno di questo spazio troveremo il nostro punto libero, S. Ora, definiremo la trasformata G che va da sigma e sigma. Secondo, vedete, vediamo questo. Prima di questo, professor, osserviamo che se sigma sta in sigma grande. Allora, sigma di t, evidentemente, è maggiore uguale di i, perché è non decrescente, ed è migliore uguale di t, di t, ah, questa è una cosa abbastanza elevata. Cioè, quindi, diciamo che, disegnando ancora un attimo, questa retta che si attorta un minuto per me, più tutte le, le curve, gli stanni, ma vivono in questo, questo pendello. Una di queste sarà il nostro punto libero, il nostro punto libero, S, quindi, andrà a pescare questa lunga che è proprio il nostro punto libero. Allora, come si definisce questa domanda? Si fa così. Descriviamo la parola. Fissiamo sigma, o fissiamo S, rispetto a questo dato S, fissiamo S in sigma. e risolviamo 1,4. Definiamo, e questa, siamo già arrivati alla differenzione di t, t, di s, che è una funzione del tempo, che è trovata in t, quindi, avendo risolto 1,4, io ho a disposizione della soluzione 1, t,s, di t, sarà b, meno l'integrale della zera di t di quella 1, la 1, naturalmente la soluzione 1,4, x, s, tau, e tau, in e, per t, la zera di t. Bene. Questa è la definizione della trasformata t per z. Vediamo. Resta da stabilire che effettivamente t per z va davvero a sigma e a sigma prima di tutto. Quello integrale si può fare questa, si può calcolare con l'integrale sì, in modo assolutamente classico, perché ux, per quel lemma che è un problema all'inizio, ricordate le regolarità, purché il dato al contorno, scusate il dato al contorno al contorno è una funzione continua alla funzione continua. Quindi io non sto integrando una funzione continua. Quindi ux, ds, t e t è una funzione tau e tau è una funzione continua. Quindi quell'integrale si può calcolare e questa t di s è una funzione continua in quanto l'integrale è una funzione continua, anzi, t è una funzione di più. Allora, vediamo ora. Evidentemente t s di zero è questa posizione b quanto vale t s punto cioè la derivata rispetto a t s con t e e e e e e e che per che per il lemma scritto uguale è maggiore o uguale di zero quindi non parte perché ux è negattissimo anzi è maggiore scritto da come dotto maggiore o uguale a zero ed è il lemma per il lemma nella lavagna sinistra quindi effettivamente segue che t ds sta in sigma e perciò t effettivamente è una stranata da sigma in 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 sigma e che si ha un punto fisso ripetiamo se TTS è S anzi SSE se sono sempre TTS è S US è soluzione beh, chiaro perché se l'animata di T in TTS è meno S se questo è proprio S è con soddisfatto anche la convenzione 5 S punto vale meno S quindi chiaramente le soluzioni del nostro problema sono tutti e soli punti fissi quindi se riesco a dimostrare che questi punti fissi ce ne è uno io non lo so fine della storia il problema di Stefano ha un'unica soluzione e è proprio il peggio problema allora come si mostra che la trasformata ha un punto fisso? allora in generale questi metodi utilizzati sono o almeno quelli che rispondono solamente diciamo in un parte in Sardegna 1 o quello che si basa su un problema di Schauser che sostanzialmente dice che una trasformazione che va da un compatto dello spazio che va anche in sé convesso se è continuo a un punto fisso oppure ancora più semplice il problema delle contrazioni il problema delle contrazioni se una trasformazione è contrattiva dallo spazio ma anche in sé a un punto fisso in questo caso si potrebbero usare entrambi diciamo useremo quello delle contrazioni facciamo un problema di quanto si potrebbe usare con di Schauser tra l'altro questo conduce ad un approccio tecnico che per quanto molto semplice in questo caso unidimensionale non vale la pena di sottolineare la differenza degli approcci di Schauser allora prima di tutto bisogna trasformare bisogna trasformare la bisogno diciamo io non saprei fare la dimostrazione se non passando attraverso una trasformazione della se come mi ha chiesto di prima volta della trasformazione cioè scritta così questa DPS ha il vantaggio che fa venire subito come mai la soluzione un punto fisso però ha un vantaggio che coinvolge una funzione ux che è difficilmente controllata se ci pensate bene noi dobbiamo dimostrare in un modo o nell'altro una qualche continuità di di in S ma questo significa dimostrare la qualche continuità di ux in S giusto? questo non è chiarissimo come si possa fare già dimostrare la continuità di u in S non è chiarissimo in questo momento come si possa fare però sempre meglio quello sarà piuttosto che con un ster per una volta la rigolarità della sua derivata di solito passando alle derivate come si sa delle cose si complicano cioè la rigolarità diminuisce la derivata sono possibili le funzioni primitive e quando si conosce qualcosa sulla derivata si riesce a sapere qualche cosa di una funzione primitiva da integrare altrimenti altrimenti beh insomma per farlo avendo facciamo la prima delle numerose integrazioni per parti che ci accompagneranno a questa conclusa fissiamo in tempo t e integriamo l'equazione di tutti i due ui stessi in questo dominio in quale contesto siamo? perché abbiamo fissato il contorno di partenza x dov'è essere di t stiamo riscontrando 1 4 quindi u è la soluzione di 1 4 ora io lo integro per parti cioè scrivo 0 uguale all'integrale tra 0 e t integrale tra 0 s di u di u tau meno 1 x x in x x m m m m m m e usiamo appunto l'integrale eeeh mi sarebbe l'emergenza cominciamo con l'ottavo allora integrando l'ottavo integro su questo segmento giusto? quindi vi verrà che cosa? e vi verrà l'integrale innanzitutto meno l'integrale tra 0 e b più 0 e x e x bene? bene? si integra una parte da p o da 0 quindi Parti dal zero. Le esperte gambe sono fatti tutto questo e il b. Ah, ok. Ma quando io integro su questo segmento, gli effetti segmenti si dividono in due famiglie. Quelli che sono fatti così e quelli che sono fatti così. Cioè, quelli che finiscono su due università. Allora, io quello però ho integrato, ho integrato, ho considerato il primo dei due dati, dato l'altro estremo, di questi segmenti qua. Ora, quando si vede troppo a quegli altri? Intanto, il secondo estremo però è uguale a tutti, direttamente, e si ottiene più l'integrale tra zero s di più di x di x. Bene. Manca un pezzetto. Allora, qui la cosa è, diciamo, sottile, cioè sottile, in realtà. Comunque, viene l'integrale tra zero di t di. Allora, di u, di s, di tau, di tau, di tau, di s, di tau, di tau, se non ricordi male. Questo, alla fin fine, che cosa viene esattamente? perché non ha molta importanza, per essere assolutamente sinceri, perché tanto, u è zero. Pugniamo ansa, però non lo sarei in caso di questo integrale, su questo punto qua. Un qui è zero. Quindi, perché ci vuole stesse punto? Perché in realtà, tra l'emergenza dice, qui dovrebbe, l'integrale fa questa nuva, nel senso che l'integrale è di u, l'integrale, per la componente, la norma esterna, se non è vista, lungo la seconda. Questo dice il problema dell'emergenza. Se vi fate tutti i conti, scoprite che le vuole scosse. Comunque, in ogni caso, questo è zero. È zero, perché u è zero. Quindi, alla fine, che ci sia l'es, punto, che non ci sia, mette il cambiamento. Comunque, ci sarebbe. E poi, c'è la, ehm, la parte di legge, che continuo a scrivere qua, se non lo mettete, più, più che così. Allora, devo integrare un deciso. Il tavolo l'ho liquidato, d'accordo? Devo integrare un deciso. Ux is integrato. Questo è semplice, semplice. Mi dà, non dà come anche, se non ci tengo, usare il teorema della divergenza, non sono semplicemente il teorema fondamentale del cappolo. Mi dà, quindi, ux è integrato a sinistra, che è h, quindi, integrato da zero e t di h, dà un, dà un, dà un, dà un, dè un segno meno veramente, fatemi pensare un attimo. Quindi, c'è un segno meno, quindi mi verrebbe più ux dello zero, ma più ux dello zero e meno h. quindi questo, in effetti, mi sembra, se non ci sono qualità per sé, non ci sembra. Poi, meno ux a testa in S e D. E quindi si ottiene la fila, meno integrato da zero, di ux di S, quindi, i tau, i, tau, i. Chiaramente, allora, questo è proprio quello che appare da dentro. Quindi, ho trovato un modo di scrivere quello integrale che riconvulgeva dal verifalte, eccolo là, con un altro modo che ora vado subito a rischiere questo. Io vado subito a rischiere questo. Poi si può riconoscere. Quindi questo, a questo punto, lo possiamo raccettare. Abbiamo già un altro tipo, un altro spazio su cui in sé. Sigma, lo si può vedere con lo spazio su cui insieme delle funzioni logiziane, per esempio. Quindi, di quello spazio umano, delle funzioni logiziane. Quindi, T di S di D. In realtà, posso scrivere quello di P meno quell'integrale. Allora, meno quell'integrale significa scrivere più l'integrale tra zero e P di H di tau di tau, più l'integrale tra zero e P di X di D di X. Meno l'integrale tra zero e S di D, più l'integrale tra zero e P di T di D di X. Tutto questo, infatti, e tutte queste cose qua, più in tre pezzi, li posso chiamare F di D, e sono del tutto indipendenti dal punto dello S. Quindi, quindi, dipendono da dati e basta. Quindi diciamo che da S la trasformata di S la trasformata, si sente solo nell'ultimo integrale. e sono riuscito a scrivere la D non più in funzione di X, ma in funzione di U. Ma in funzione di U. Ma in funzione di U. ora, supponiamo per un attimo che D sia il contorno del programma di S, perché P di X se è P di X. Allora, che cos'è quella dell'uguaglianza? Quale interpretazione urealistica, immediata, ha con l'equazione di U? che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Vuol dire dentro il nostro al tempo di dentro il nostro nostra acqua, il nostro dominio, abbiamo messo la seguente energia. Questa, poi ci sarebbero i vari costanti, naturalmente, ma è stato appunto più visualizzato. Questa, che è l'energia che è arrivata dal flusso che non è scritto a stessi. Questa, fino al tempo. Questa, che è l'energia che è presente in forma di tempura dell'acqua all'istante iniziale. Questa, che è l'energia? L'energia è questa. B. B è una posizione iniziale di S di T. Perché? In realtà è un'energia. Perché? Il materiale modificato nella formulazione non dimensionalizzata per il calore latente è la quantità di energia presente dentro l'acqua non in forma di temperatura ma in forma di calore latente che ci è stato dato perché se no è l'energia. Se no è l'energia, è proprio stato un viaggio. Se quell'acqua già sciolta, vuol dire che contiene come minimo anti-fossi a temperatura zero, il calore latente è necessario a fare il calore di trefase. Quanto lo contiene? Beh, in modo proporzionale ovviamente questo semplice problema unidimensionale è la lunghezza di fase B. E quindi è B. Quindi B è anche l'energia. Da questa energia presente allo stato iniziale o compara dentro di un tempo T, sottraiamo che cosa? O se preferite portare tutti di là, forse meglio così, portiamo anche questo termine di là. All'energia presente allo stato iniziale o comunque evitata successivamente la troviamo in due forme. Prima forma. Temporatura. L'integrale della temperatura. Nella è chiara. Seconda forma. da non dimenticare. Come questa vita. Semplicemente calore latente. Il contorno è avanzato. Quindi c'è più energia sotto forma di calore latente di quanta ce ne fosse all'istante iniziale. B all'istante iniziale. S di T all'istante T. Quindi vedete, in un certo senso il termine in fioma, che è la forma di energia corrispondente alla calore latente e il termine qua, che è quella di ricevuto alla temperatura, competono per accapacularsi di energia che viene, che è disponibile. Quindi questa energia in parte risponderà l'acqua e in parte sceglierà l'acqua. Questo è come funziona il problema di Stefano. L'acqua un po' si deve riscaldare perché se smette di riscaldarsi se non ci fosse da fare il cambiamento di fase, perché appunto una parte del calore se ne va nel calore latente e la scioglie del ghiaccio. bene. Quindi questa è la forma della trasformazione in cui useremo i f grammi di litri di meno 2.0. Vi ricordo che... Grazie, grazie. Noi non lo sappiamo non è che vogliamo trovare un punto fisso. Ma ora, potrò che è il punto marito è il punto marito. Allora... che è bene fare in foto precedente. Allora... Noi dobbiamo mostrare... Lo scrivo perché... per le fiamme... Dobbiamo mostrare... che T è continuo. Attribuirà contra T, in realtà, alla fine lo dimostreremo con la cittura. nella norma C0. Cioè, sostanzialmente, che la norma di T di S1 meno T di S1 da inizio semplicemente con un t, ovvero non cos'è questa cosa, è meno uguale a T D, norma di S1 meno S1 di D, con D, minore di 1, se la norma D, in realtà, è la norma dello spazio C0, inizio semplicemente. Pronto. Quindi, ovviamente, dovremmo prendere, come capita al solito, quando si dimostra con l'attività che è un problema tecnico, dobbiamo prendere il T picco. Questo è quello che vogliamo fare. di patto a patto, non lo sappiamo, non lo vedo, come si fa a fare questa legislazione? Eh, visto che siamo in un ambiente completamente classico, nelle nostre strategie, non... vediamo le cose che possiamo fare. Allora, consideriamo due problematiche, venate a due frontiere, che disegnerò in verde e in blu. Questa sarà S2, per esempio S1, e quest'altra sarà S2. Ovvio, non lo disegniamo così, ma potrebbero anche intrecciarsi, eh? Questo non è quello che si intreccia, Relativamente a queste due frontiere, troverò, nel solito modo, non è ancora disegnato lassù, uno, che è ognuno, di soluzioni corrispondenti alla S1 della S2. Eh? E, avendo trovato un problema 2, troverò tau T di S1 e T di S2. Bene. Allora, quanto valo T di S2 di T meno T di S2 di T? Questa è la cosa che voglio spiegare alla fine. Per fortuna, io tolgo più nutriente grande, io l'ho chiamato S2 di I, se va, è uguale a quello che non so. quindi, io l'ho chiamato. L'integrale tra 0, S2 di T, ehm, se lo vedo, giustamente ho sbagliato, più di 1 di S2 di X, più l'integrale tra 0, S2 di T, più 2 di S2 di X. Questo, qua, fa questa differenza nell'integrale. Qui, un po' di speranza c'è, perché un po' di linearità c'è, no? Il nostro prodotto integrale è lineare. Però, attenzione, il secondo este è diverso. S2 di S2. Non so, l'integra di fatto, se lo stesso intervallo, è sempre un po' di direzione S2. Allora, comunque, fare una, per essere precisi, una, ehm, chiediamo la questione come sta. Qui ci mettiamo AFA di I, lo chiamiamo il minimo, tra S1 di T e S2 di T. Beta di I, lo chiamiamo il massimo, tra S1 di T e S2 di T. E I, lo chiamiamo uguale a 1. Se Beta di I è uguale a S1 di T e S2 di T. E a 2, a 2. Cioè, se Beta di I è S2, maggiungo questo. Allora, facendo questa, questa posizione, questo serve solamente a scrivere di molto efficiente, questa cosa qua. Perché allora, sta differenza, fatta da chiamare semplicemente asterisco cerchiato, questo, asterisco cerchiato, uguale a... è uguale a meno l'integrale tra zero e il minimo, di 1 meno 1, di T, di S, veramente, più l'integrale tra alfa di T e beta di T, cioè il pezzo che è un altro, che è un integrale in quel massimo, qua così da scrivere il segno giusto, di meno 1 da I, perché il segno dipende dal quale il numero è il numero 1, giusto per essere efficiente, per essere efficiente di scrivere la cosa. Questa è la differenza delle due stasera. Quindi, diciamo, si ha la differenza tra zero e il minimo dei contorni più l'integrale è un residuo nell'intervallo differenza delle due stasera. Quindi, questa, in questo caso, sarebbe l'alfa di T e poi l'alfa di T. Utilizziamo. Utilizziamo questo segno. Abbiamo bisogno di un integrale. Allora, allora, il fatto è questo, cosa sappiamo su questo integrale, su questa quantità. Quanto vale il numero 2? Chiamiamolo V. V è il numero 2. Usiamo questo simpatico numero 2. Quanto vale qua 2x? 2x è il numero 0. Giusto? Perché tutti e due erano un numero 2, la nostra strada. Quindi, qui non può assumere, però, nel massimo minimo. Giusto? All'istante iniziale, 1 vale 0. Perché se è 1, la nostra strada. Quindi, no, nascono il numero 0. l'equazione, ovviamente, nel dominio comune, quella del calore, al mio punto di ritorno, che arriva fino all'alfa. Questa è comunque al primo strada. Quanto vale il valore? Assoluto. In valore assoluto, riesco ad avere la strada di DAVU. Tra tutte le stime che abbiamo, in effetti, c'è una che possiamo usare, perché è una quantissima. della strada. Ricordate la strada di prima, quello che dice che la U è migliore uguale di F, S, T, X? Usiamo quella. Una delle due U, in questo caso, la V2, qui è 0. Per forza, perché siamo su uno dei contorni liberi, quindi basta stimare l'altra. V uguale all'altra. Ma l'altra, per l'altra, usò quella strada che dicevo, la U, qualunque sia, la U, in questo caso, la U. Ecco, maggiore uguale che dicevo, il metodo uguale di M, S1, meno S1, meno X, interno. Qui siamo per S1. Quindi, S1, S1, questo è. Quindi, su quello minimo, su quella bufale, che si fa, 2,4 di M, S, beh, mettiamoci un metodo assoluto, S1, S1, S1. grazie a quella stima che avevo ottimato prima e che prima, un po' l'altro, era una conseguenza del fatto che la derivata del S1, del S2, fosse così via. N era una costante, quella costante che aveva detto prima era fissata, fissata anche da S1. di M, allora, il, il principio di Mas, mi garantisce, per il principio di Mas, per il principio di Mas, per il principio di Mas, è V T, cioè il massimo di V, fino a tempo T, eh? M è uguale di M, per S1, come da S2, fino a tempo T, non può essere applicato il numero, quindi la V, dipende con continuità da S, si è simile, è simile su V, e anche con un piccolo, e questo è il principio. E più o meno abbiamo stimato questo integrale, Questo come lo stimiamo? qui si può fare perfino meglio, usando la stessa idea. la U, la U di S, la S, dell'altra S, di alfa di D, che è dato il numero 1, è il numero uguale di M, beta di D, numero alfa di D. Come vedete, lo vedete, per esempio, per esempio, usando la stessa stima che dice come V. Giusto? Beh, la stessa cosa l'avevo usato di S, o se preferite, questo è vero, ma addirittura è vero, una cosa più, più, più gelata, esatto, che Ux, Ui, di x e t, è il numero uguale di questo, se x sta con la beta di D, la quantità di D, la quantità di D, beh, usando la forza di barriere, che dice che la U si distacca da zero, cercandosi dalla franchiera, non più velocemente con il tasso lineare. Quindi, alla fine, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato tau S1 di D, meno tau S2 di D, M è uguale di che cosa? Cominciamo. Primo integrato, dal maggiorario valore assoluto. Si maggiore con il massimo del valore assoluto dell'integrando, che è questa cosa qua, quindi M S1, meno S2, norma del max, con il tempo di D, per la lunghezza dell'intervallo di integrazione, che è α. Ma io voglio scriverci qualcosa di assoluto, che non dipende da, 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 da S1, da S1. α al massimo cresce, io ho accettato giustamente, come, abbiamo visto prima, D più R, qualsiasi contorno che sta, in quello spazio sigma, alfa, dal lato ci sta, perché un max, un bel guinno, tra le funzione di incis, eccetera, 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 eccetera. Quindi, non cresce più di più o meno. Più. E questo, attenzione, maggiore ultimo pezzo. Secondo pezzo. Il secondo pezzo è meglio. Perché è meglio? Perché il valore assunto, integrando qui, è maggiorato, di nuovo, da, β1, alfa, che, evidentemente, è maggiorato da S1, S1. Eh, se al posto del valore, in t, ci metti un max, maggiore. Giusto? β1, alfa, S1, S2, oppure S1, S1, all'1. Giusto? In quel disegno, beta è sempre S1, beta è sempre S1, e beta è sempre S1. In generale, potrebbero incrociarsi e scambiarsi. Tuttavia, beta ben alfa, o S1, S2, o S2, o S2, quindi, il valore assoluto è, diciamo, il valore assoluto di S1, per S2, in t, in questo caso, in questo caso, se c'è il su, per tutti i tempi, anche precedenti, il max, eh, naturalmente, cresco. Dopodiché, va ancora moltiplicato, di nuovo, per un intervallo di integrazione, che è più nuovo come il termine alfa. E quindi, qui c'è un po' ragione. Quindi, questo è meglio, perché, essendo, sono un po' questi avvicini a seguire, perciò. Bene. Allora, cosa significa questo? Siamo proprio, come dire, spietani, intaschiamo, tutto quello che possiamo intaschare, il, 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 max, tra, 0 e t, è meno uguale di, m, per d, per i, più che cosa? Poi vi è però fatto il comune S1 e S2 t, eh? Per questo, come sto avrete, qui ci devo mettere, ci potrei mettere, n per questa norma, giusto? Ma questa, non è la mia norma, è la mia norma, è la mia norma. Ma, quanto velocemente si può allontanare S1 e S2? Ricordiamoci che S1 e S2 sono funzioni, non refrescenti, che crescono al massimo, con tasso M. Quindi, per male che vada, con le due sterra firma, e l'altra crescerà con M, quindi al massimo si appuntano l'uola all'altra, come M t. Quindi qui ci sarà altro, quello che va a occhiare, peggio di quello, un po' a destra. e poi ci metto S1 e S2. Questa è vera, attenzione, per tutti i t, tra 0 e T3, fino a non ne avrò fatto nessuna ipotesi di piccolezza della t. Allora, questo sarebbe abbastanza con usare Schalber, perché effettivamente la continuità ce l'abbiamo, una continuità legisiana della t rispetto a S1, alla S, giusto? Schalber troppo è noto dall'esistenza, ma non dall'unicità. Quindi sarebbe comunque un problema aperto di dimostrare un quadro di carattere, un partito della D per dimostrare l'unicità. Cosa che infatti la faremo? Domanda. Perchè questa stima, così come l'abbiamo scritta, non è sufficiente a dare contrattività? Dovrebbe, per dare contrattività, questa parentesi graffa dovrebbe essere il pari a più da un'ossaggista e fare il periodo di uno. non lo è. Sicuramente questo è più piccolo di un decimo, se voglio, perché basta prendere t. Bene. Torno a questo. Chiaro il punto? In questi casi, io posso, siccome questo è vero per tutti i t, t lo posso scegliere. Se lo prendo più piccolo di uno su dieci, e più a quattro, questo è più piccolo di un decimo. qua posso fare lo stesso gioco? No. Perchè anche quando posso prendere piccolo t. Qua mi parla di un premio. E il premio è più piccolo di uno, che è una buona scena. Se è più piccolo di uno, se è più piccolo di uno, ma se invece è più grande di uno, è molto nato nella pratica. Quindi, il, diciamo, questo, 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 questo approccio è intrinsecamente incapace, e come lo abbiamo almeno messo giugno qui, di dare carattere contrattivo a chi. Cioè, non è possibile che teniamo carattere contrattivo. Chi è che incriminano? Chi è che veramente ci ha avuto di scavo? Chi è che non ci permette di ottenere quella di più piccola di uno? Naturalmente questo è quello pezzo, che è il pezzo che viene. Allora, vediamo oggi il seguente problema. È possibile che questo pezzo qua veramente e intrinsecamente si comporti come S1 o come S2 per una costante fissa? O non ci stiamo noi perdendo qualche cosa? Cioè, è possibile che il nostro approccio sia troppo rozzo e non catturi qualche comportamento della soluzione che effettivamente invece c'è? Vediamo, ricapitoliamo. Il nostro approccio alla fine è se è quasi altro sul principio di massimo. Tutto, non abbiamo usato l'altro è il principio di massimo. Com'è quando sto chiamato un numero uno di quella che chiamava l'alto? è perché, vedete, su questo mondo v è il numero uguale di m che è S1 o come S2 quindi, siccome il principio massimo uguale da P punto qui dentro è il numero uguale del max di cui abbiamo chiamato è il numero S1 o S2. ma questa stima è ragionevole perché no è il numero che si può fare oppure no non è chiaro non è chiaro per niente non è chiaro per niente perché l'ha effettivamente più osservati è che non qui è Z usiamo l'avventura e lo corregiamo da U qui dipende da Z e uno dice raccordo ma anche S1 o S2 qui dipende da Z sì, è vero però mettiamoci qui per esempio chi è che rende qui Q diverso da Z? come mai? parliamo U veramente come soluzione non è come soluzione di un problema di diffusione come mai Q è diverso da Z? perché di qua arriva prova arriva l'effetto che si propaga eh con velocità infinita questo è un fenomeno comunque si propaga e alla fine mette una differenza da Z tra tutti questi punti però la velocità di proporzione infinita è proprio il numero non è che istantaneamente non è che si può spostare quantità finita di massa quindi quello che uno si può aspettare è che qui non sia così via però sia uguale sia uguale sia uguale ma questo è quello che dà di carattere di carattere cioè noi effettivamente ci stiamo un po' prendendo un effetto questo effetto diffusivo cioè è un approccio troppo grosso il trucevole di massimo tanto bene per tante cose che abbiamo usato in figura ultimamente però effettivamente diciamo in quest'ottica è insufficiente è insufficiente facciamo una cosa diciamo dobbiamo fare la stessa più raffinare allora questo lo lasciamo così per il momento t1 tds1 meno tds2 continuano a essere scritto così questo pezzo qua che a questo punto sarà appunto opportuno sottolineare il verbissimo va bene questo va bene perché già è immaginato una cosa che può essere resa lì con la contrattiva il problema è immaginare questa situazione quindi trovare la stessa più vediamo come si fa questo è il nostro obiettivo per il resto della lezione di stamattina vediamo come si fa si fa come un trucco naturalmente naturalmente no ma si fa come un trucco di localizzazione cioè come un trucco di funzione cutoff vediamo dunque più cosa di un trucco di un trucco di un trucco di un trucco Allora, definiamo una funzione così via che è vostro. La funzione cacoforca è una funzione che è zero in gran parte del dominio ed è uno invece in gran parte del dominio e ovviamente non è condata nel mezzo. Serve sostanzialmente a identificare esattamente che cosa succede con una parte di una funzione che non è zero o meno, dimenticando quello che succede a tutti. Allora, questa funzione cacoforca sarà una funzione c-infinito, compresa tra 0 e 2, con derivata, diciamo, da z di x è 1, se x sta tra 0 e b-1 della vita, è 0, se x è più grande di b-2 della vita, che è il termino così tipo fissato, tra 1 e 2, un termino positivo, ben fissato, da scegliere, da scegliere. E, questa è una cosa anche molto importante, possiamo supporre che il termino diviso, questo è una cosa che sarà meglio finito con l'altro, ma comunque, in modo che assoluto, è meglio uguale, diciamo, giusto. Insomma, la funzione cacoforca è una funzione fatta così, qui c'è b, qui c'è b-2 della vita, qui c'è b-2 della vita, v-2 della vita, tu c'è b-2 della vita, qui c'è b-2 della vita, qui dice b-2, che viene Z, ho messo un termineцine di tenere fino a c-b2 della vita fino a una funzione編bolica, quindi del mezzo nella variata ridottante e quindi di stato un termino di tensione patit bruciare zero e quindi al mezzo è raccoglialità in modo regolare. uno potrebbe farla prendente quanto vuole ma non c'è bisogno della complicanza della vita c'è un prendente il minimo cioè sostanzialmente base di risortizia potrebbe essere di risortizia cioè un 2 sub dita questa è la situazione che ho fatto quindi ora moltipliziamo questa serve per la funzione a questo moltipliziamo l'equazione soddisfatta dalla v la v è il provare per che cosa? v z quadro e integriamo le parti e integriamo le parti questo è il dove venga così però è chiaro che in realtà a destra lì addirittura a destra lì non c'è niente perché la funzione della ruffa non alza tutto mette tutto a zero quindi integrare da quel punto significa integrare diciamo per essere seguiti a sinistra lì quindi quindi l'integrale che otteniamo alla fine a questo punto io procederei anche la formazione della prima della stefa che è francamente che è ormai una modalità e allora che passa a vedere? forse la vediamo vediamo l'integrale transerente dell'integrale transerente di v tau quindi v x x questo è zero come vedete l'integrale transerente per v z a quattro quindi x a quattro facciamo questo l'integrale che si sta a fare? come vediamo andiamo io mi sono andato allora il primo pezzo v tau per v z a quattro questa volta non ci sono tante applicazioni che dominiamo che avrezzano z di come per 30 secondi x quindi l'integrale di v tau per z a quattro è l'integrale della derivata di v tau quadro z a quattro v tau se potremmo sbagliato della derivata rispetto a tau di v quattro mezzi per z a quattro quindi viene l'integrale di mezzi dell'integrale tra zero di v di x e t per z di x meno l'integrale all'istante iniziale quanto fa l'integrale all'istante iniziale? zero v e z quindi quindi quello non c'è e quello si viene in grado poi abbiamo l'integrale di un x x e u eccetera eccetera questi qua l'integrale per la integrazione quindi vediamo che cosa si avrebbe meno vx l'integrale più x x per v per z quadri calcolato per x uguale a zero e x uguale a b perché che ne ha la franzia di b giusto? e questo va integrato a zero va integrato questo fa zero la franzia di f è zero perché? perché in b z è zero giusto? in b z è zero in zero vx è zero eccetera questa è potenza della funzione cat-off questo è zero certo che non è zero sarebbe da zero ma in b è zero perché ci ho messo la funzione cat-off se no qui sarebbe il monofone tutto ciò che è condivata dal tanto quello famoso di qui sono quindi non dimenticavo che c'è questa la funzione cat-off ovviamente ci sarà dato il prezzo in un certo punto questo è chiaro che non è che posso permettere di buttare gli altri dati al volumoso vedremo quali sarà il prezzo da pagare bene più che cosa è secondo la regola di integrazione per parti devo mettere la derivata di v z quadro di vx vediamo cosa è più l'integrale di z di più per l'integrale di 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 vx per vx z 4 quindi vx 4 z 4 x 2 più l'integrale tra z t l'integrale tra z t di vx v la derivata di z 4 che mi dicono che z è z 3 in x tutto questo è zero allora qui io ho quello che speravo riuscire a maggiorare sostanzialmente l'integrale di z lontano dal mondo da alfa di t lontano a distanza di delta delta beh questa è e questo è quello che voglio stimare questo è poco è un amico minimo tutto questo è quello che voglio stimare questo pezzo qui anche è un amico minimo perché è positivo a più e è positivo a z e questo quindi vi troverò sulla stessa lato della lusualdianza quello che invece è un carcerato questo qua questo effetto la lusualdianza sarà un pezzo l'integrale tra 0 e b v di x e t al quadrato di z 4 di x di x più l'integrale tra 0 e b e l'integrale tra 0 e b di v x quadro z quadro di x di u uguale a meno due volte l'integrale tra 0 e b e l'integrale tra 0 e b di x v 0 0 di x di x v 0 0 0 V V Per fortuna qui si fa un punto standard anche l'uso dell'usualdianza che ho sceso la pizza cioè si vede che un pezzo di questo oggetto che è a destra si riesce a riasso di un pezzo vi ricordo ho scrivuto un altro colore che in generale tante numeri reali comunque come dirà un pezzo a e b vale che a e b 2 almeno anzi il volume assoluto è il numero uguale di x da quattuale o più di quattuale su una questione questa è la questione questa è la questione di stanza allora noi applichiamo esattamente quello un mezzo uguale a un mezzo a 2 e otteniamo se a posto di v prendiamo vx e z vx e z e ci otteniamo un mezzo di un risparvo z quadro e quindi non riesco a rinforzare va bene torna supponiamo che l'abbiamo già fatto ma questo però è sufficiente un mezzo non ma solo se lo so spendo in realtà questo potrei mangiare null'altro e quindi quello che otterrò sarà 2 per l'integrale tra l'azione t quindi l'integrale tra l'azione t di v quadro per z primo alto a rato in visita e questo è quello che dicevo prima parlando di purezza da fregare questo ci è da fare questo rimane per l'azione e vediamo se questa cosa ci è servito a poche cose oppure non vediamo un po' qui mi viene cerchiamo di appuntare come ci sta riportiamo un po' questa la lasciamo qui purtroppo non posso cancettare niente vabbè però cancettiamo questo questo ci ricordiamo non è stata scelta la funzione z lo useremo immediatamente mi dispiace un po' cancettare un po' allora allora quindi alla fine cosa ci interessa quello che ci interessa è che l'integrale tra 0 di v di x al quadrato per z al quadrato di x è un quadro di ricorda e l'altro lo posso anche buttare via se non ricordo male non mi interessa di 2 volte l'integrale tra 0 e 2 dell'integrale dove è fatto veramente quell'integrale è fatto tra 0 e b beh no se vi ricordate dove è fatta da z primo a zeta z primo diverso da 0 perché z non è costante che è solamente tra b-2 lenta e b-2 lenta di che cosa? v quadro però v quadro lo posso maggiorare il massimo di v fino a tempo di v maggiore più massimo e poi ci raccomandiamo z primo se non ricordo male che è maggiorato da 4 su 2 quadro in x bene quindi alla fine ottengo un uguale di qualche cosa 8 su zeta 4 per un zeta che viene da questo che è il valore per un t che è il valore per v v un zeta si va un altro invece c'è questo gioco il data gioco appunto di noi se non fosse avremmo scoperto il mondo per eliminare le unità da loro basterebbe mandare la realtà zero quindi manca cosa manca c'è l'integrale così c'è il testo tra l'altro c'è sbagliato cercare c'è il c'è il c'è il c'è il c'è tra l'altro torniamo torniamo questo l'abbiamo già maggiorato ricordiamoci una volta da tutte era n quadro per il t per s1 per s1 per s2 questo è fatto torniamo a maggiorare questo quindi il nostro reticola x maggiornamente l'integrale fra zero tra l'altro di valore assoluto di x x bene primo penso voglio studiare i suoi rispondizioni e certo allora questo lo spiego come l'integrale tra zero e qui e 2b x tra zero e qui no tra zero e qui meno identità e di x più l'integrale tra pi e alfa pi di u x esatto u x di x questo il primo mezzo è l'inguale dell'integrale tra zero e qui meno due delta di v quale x d x attenzione o meno facciamolo qui a questo passaggio scusate x x e x x x Dopodiché una volta che ce l'ho messa, posso farci ampliare l'intervallo di migrazione e arrivando fino a B crescerò più un po', beh, maggiore. Quindi qui in realtà posso metterci un quadro, un quadro, un quadro, un quadro, un quadro, questa protezione, alla un mezzo, perdonare G, enter, enter, più, e qui ci metterò VT, come sopra, per il massimo, per alfa di G, per alfa di G, meno B, più 2 dita. Va bene? Ricordato? Bene. Questo però io l'ho maggiorato di G. Quindi questo è il numero quadro della radice quadrata di 16 su dita, quindi 4 su radice di dita, per la radice di G per VT, per la radice di B, che, stivola, G, più, di nuovo, attenzione, quindi che cosa posso mettere? Che cos'è alfa di T meno B al massimo? Ricordo che alfa parte da B e cresce dal massimo più di MT. Quindi alfa di T meno B e MT, più di MT non questo. Quindi qui ci vediamo, MT più di MT. Vedete? Va bene? Ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Che cos'è, quindi? TAU S1, MT, S2, NO, NO, NO. E' quello uguale a T. Cioè, una costante che specificamente ha 4 radice di D per la radice di D sulla radice di D. Più... Ho metto affetto pure una VT che mette lo scritto al gioco, ok? Ecco, benissimo. Più quella roba che c'è scritta là, quindi MT di dita, più vi ricordo il pezzo di climatico che era il quadro di D. Per VT, la norma di VT. Però la norma di VT l'abbiamo stimata prima con il principio di massimo, è S1, S2, T. Veramente c'è un M, un'altra M. Ehm... Ehm... E allora non mi piaccerebbe, ma davvero... Va bene. E' qua. Un 2L. 2? 2L. Per chi? 2L? 2L. Ah, io c'ho notato di fare 2L. 2L. Benissimo. Questo è il carattere contrattivo oppure no. In effetti, qualche cosa abbiamo raggiunto. Abbiamo trovato questo radice di tipo di paluccella. Questo è particolare. Questo è particolare. Questo è radice di tipo di paluccella. ed è venuta fuori, ed è venuta fuori da qui. E da qui è venuta fuori perché è venuta fuori da qui. Quindi... Questa infoglianza, l'ultima analisi, dice che è vero che all'istante T, V può essere più grande di zero. Ma non può crescere correttivamente una funzione di T che parte da zero. perché ha bisogno di un po' di tempo o di massa che arriva ad ognuno alfa per le spostanze di T. Quindi... Quindi... Una funzione piccola in T ci resta. Questo è il T è il gesto. Abbiamo raggiunto... Qui c'è dopo i suoi radici di T, ma abbiamo raggiunto qua un caduffo già venuto fuori con gli altri. Però, in realtà, te la è il figlio, nonostante positivo, ma comunque è un piccolo adibili di 4. Allora, qual è il tema? Per esempio, prendiamo... Delta uguale... Possiamo fare in tanti modi. Forse è un modo abbastanza rapido di farlo, anche se c'è sempre una teoria di ginnastica mentale, è che basta prendere... Vediamo... Delta uguale alla velocità. Se prendo Delta uguale alla radice di T, la parentesità fa che cosa regge? Vediamo... Perché occorre una ginnastica mentale? Perché qui occorre rendere il secondo punto che T è fissato... T è il tempo finale. Quindi T debita in cui si viene con il tempo finale, questo è perché sono competenze con il tempo finale. Questo è il subito di T, ma non è una funzione della linea. Benissimo. Allora, cosa direi sostanzialmente a tenere? Quattro radice di B per radice quarta di B più sostanzialmente 2N di B più 2 radice di B. E come vedete a questo punto è chiaro che la parentesi graffa, se è piccola appunto si vuole, anche se la ho ottimizzato, non c'è anche la prima cosa a voi. E quindi il carattere contrativo è dimostrato. Quindi, diciamo, è vero che la gente si graffa, se per venire, e questo è un punto di carattere, e questo è il più piccolo di uno. Per il tempo abbastanza piccolo, eh? Per un tempo abbastanza piccolo, effettivamente abbiamo mostrato, fate riscrivere tutti i minuti di attenzione. Abbiamo mostrato, quindi, l'ho superata questa difficoltà che ancora l'ha visto terminata in corso, e abbiamo mostrato. che T è una comprensione, eh, attenzione, tutto da sigma di sigma, purché quello che si chiamava tigrano, che ho un esempio chiamato tigrano, sia sostanzialmente un tigrano molto piccolo, effettivamente, che è però una funzione esplicita di che cosa? Andiamo a vedere l'a, beh, è una funzione esplicita di tutti gli anni. Giusto? Quindi, esistă un soluccio tecnico, fino a un tempo, fino a tal tempo, a questo tempo, cioè, abbiamo finito un tempo sfruttato, allora, è vero che questo dimostra che c'è sostituzione fino al tempo originale, grande, mh, perché, come gioco, è d'accordo, c'è, è demostrato che c'è sostituzione di soluzione, però, fa un tempo, un scolo piccolissimo, in questi corsi. A noi interessava, il principio, trovare soluzioni, a questo tempo, più grande, fino a più che scrivevamo il dato H, su un numero, no? Si può, come si fa in mamma, iterare l'argomento che dopo avendo, il più dimostrato, l'esistenza, l'argomento, i figli, arrivare dal tempo, i figli, e dal tempo, i figli, e così via, se si può fare proprio finito. Si rimane. Si può fare o non si può fare? E' chiaro che non sempre si può fare, esistono dei problemi, anche per i suoi parametri, che intrinisticamente, se hai in carico il primo mistero, che intrinisticamente, non hanno soluzione, per tutti i tempi, e quindi, a un certo punto, la soluzione, per un tempo, per un rumore, per un rumore di risorse. Quindi, nel tempo, il fatto che si possa fare, in questo caso, si può fare. Perché si può fare? Perché il tempo di tilde, non dipende, o che almeno non dipende, in modo critico, dall'interazione. Cioè, si può trovare un tipo tilde che va bene, indipendentemente dall'interazione. E quindi, veramente, si può ripetere questa cosa qua. Perché? Non dipende dall'interazione. Dall'interazione. Lo cerco che le scrivono a parole, per capirarsi. Da cosa dipende il tipo tilde? Da B. Cioè, da quando sono lontani dalla cosa, e da, da, scusate, dalla, dalla, dalla fissa, dalla zero, prima cosa, quindi quello che gli si chiama B, e da M. M è quella costante che appare di, attraverso, sostanzialmente, la stima del massimo di B, cioè, la famosa stima di barriera. Giusto? Allora, la stima di barriera, per loro, è definitiva. Quella la presenta. non c'è, è uguale per tutti, per tutti i tempi. Una volta che abbiamo, che H è l'infinito, questo lo abbiamo, fino all'inizio, per il contesto. B. Ora B, in questo contesto, devo dire, non è chiarissimo, in questo momento, se, giochi, a favore o contro, di noi, il fatto che B, sia piccolo o sia grande, se la cosa critica, sia di piccolo o grande. Ma non ce ne frega niente. Perché non ce ne frega niente? Perché, fino a qualunque tipo di fissato, a qualunque tempo di grande o di fissato, fino a qualunque, un grande o di fissato. La fronte alla nuova, sicuramente, non può scendere sui tempi, ma neanche può andare sopra, il famoso, il più alto di grande. Quindi, ci metterò il peggio che resti. Giusto? Quindi, alla fin fine, le cose possono andare male. Cioè, in questa stima di tiglie, potrebbero metterci qua, al posto di m, se volessi giusto andarci, proprio sul sicuro, ci metterei b più m di grande. Peggio di così, non muore. D'accordo? Al posto di m, chi ci metterei? m. Quindi, alla fine, questo tempo è indipendente dall'iterazione, il tempo è indipendente dall'iterazione, e dunque, questo, liquida questa questione. Abbiamo trovato, in realtà, all'iterraneo, appunto, esistenza, unicità, di soluzioni per tutto il tempo. Abbiamo risolto il problema di Stefano, unidimensionale, nelle mode fatte, al quadri, fino al tempo, generale. In realtà, il tempo più grande è, chiaramente, abitratto, e quindi, purché la h sia continua tra zero e l'infinito, abbiamo dimostrato l'esistenza, velocità di soluzione tra zero e l'infinito. Quindi, abbiamo preguito, tra l'altro, studieremo completamente semplice. Abbiamo dimostrato che, una soluzione, certe e unica, per tutti i tempi. Una s, quindi, si allarga, si allarga, si allargherà sempre di più, ottenerà un nuovo esempio. Questo lo vedremo. Comunque, intanto, la soluzione c'è. Va bene? Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Eccoci. Dunque, allora, come ancora, abbiamo dimostrato l'esistenza di soluzioni per riuscire. per riuscire la sicilia, per niente, questo è una cosa. Sotto le porte del volume che erano già abitati prima, non lo sto da riscrivervi. Questo è il problema. Allora, ricordo che S è stata al principio trovata come una funzione, in uno spazio di funzione di tutti i ciziani, però in realtà si trova un punto fisso, vuol dire che sta anche nell'immagine di chi, e l'immagine di chi non avrà visto è fatta le funzioni C1, quindi S è data per C. La U è una coppia O, S è una soluzione, è una soluzione, nel senso di una coppia O. Diciamo che in realtà si può vedere che la S, questo lo scrivo come osservazione, la S in realtà è C infinito. Non è solo C1 no, ma è C infinito, in effetti. Questo si può fare con un procedimento, diciamo, di regolarizzazione, un cosiddetto bookstrap. Sostanzialmente, se non ricordo male, definiamo la funzione U di Y di T, definita come U di Y per essere T. qui, vediamo la funzione U di Y, penso, qui, quindi, applicarlo a questo punto, la funzione U di Y, da questo punto, è chiaro che in questo contesto, sta trazione U di Y per le rette. E allora, se preferite, questo significa più di X di T, si può in realtà scrivere come V di X su S di T. Perciò, qui, è V di Y per X su S di T al quadrato per S punto, qui, qui, è S punto di T, più 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 di T. E il X è più di X su S di T al quadrato per S punto di T. Quindi, questo io ho scritto solamente, lasciamo un po' insieme a quello che si fa, io parlo un po' insieme così. L'idea, è giusto per dare l'idea di come si dimostra questa regualità testa della S. Quindi, l'equazione soddisfatta dalla V è, evidentemente, U di meno X, che sono più di T, meno, V è Y su S di T, meno, V è Y su S di T, uguale a 0. E si noti che V di 1 e P è 0. Quindi V in realtà soddisfa questa equazione parabolica, vedete se è un'equazione parabolica, un'ottimina complessiva di Y, un concetto coefficiente, in un dominio con una frontiera liscia, una frontiera liscia, l'equazione è un'equazione parabolica. Allora, sostanzialmente l'idea è questa, si comincia facendo vedere che S' in realtà è l'idea. S' sta in quello che si chiama lo spazio che si chiama C' alfa, B0C, cioè è l'idea di esponente alfa. Allora se l'idea è l'idea di esponente alfa, questo significa che V è C2 e P0. D'altra parte, la condizione di Stefan dice che Ux è meno S1. Ma che cos'è Ux? Ux è, da qualche parte di uno scritto, ma non credo comunque se non questo è un'idea di esponente alfa, questo implica che Uy è C1.4, cioè C1.4 con le derivate tutte le derivate. Ma allora S1, secondo quale appunto, se non ha fatto il fattore S è più regolare di S1, quindi S1 è C1.4. Ma allora se S1 è C1 più alfa, sempre che questo si chiama, come si chiama due derivate, le derivate, come se ci sono delle equazioni, V è C3.4. Ma allora Ux è C2.4. Ma allora S1 è C2.4. Ma allora V è C4.4. Allora V è C4.4. Questo è la regolarità. Il cosiddetto BUSDRA. BUSDRA, quello che sia, voglio dire, una rotata, una razza normale, come il giroconte come il cascato non c'è più. In questo caso è così vivo, però non c'è più. Nel senso che si innesca questo ciclo e si fa un passo, si guadagna una regolarità, e poi alla fine è sempre due centri. Questi sono teorefiche, noi ora non ci mettiamo a mostrare, sono teorefiche di cittadini, questa freccia, cioè che se i coefficienti sono C alfa, la V e il cittadini alfa, che è una cosa, è un teorema standard, che sono classiche, classiche, classiche paraboliche. Questo primo, diciamo, va dimostrato effettivamente, che se punto sia C alfa, se l'interiamento, questo va va dimostrato e andrebbe dimostrato con altre tecniche, insomma, a partire dal programma da Uber. Va bene. Allora, il compito, diciamo, di fatto, la S è C infinito. Quindi la regolarità della frontera liberale è, ovviamente, indipendente il proprio punto della regolarità, che abbiamo due dati sulla frontiera liberale. Abbiamo scoperto che sono continui, ma anche costi scontivi, non cambieranno per niente. La frontiera liberale resta 100 minuti. È chiaro che questo discorso che abbiamo fatto è un discorso locale, anche il quale vicino alla frontiera liberale. Cosa succede fuori, in lontano. Abbiamo invece un paio di risultati sulla frontiera libera interessanti, perché fanno vedere qualche tecnica che è una costruzione caratteristica del problema liberale liberale. Il primo risultato di monotonia. Supponiamo che, che ora è qua, che Ui e Sd, un minuto ad evo delle condizioni, siano sedizioni corrispondenti ai dati H1, H2, O01, O02, con, prima di tutto, B1, cioè la condizione iniziale del primo, minorupabile di B1, condizione iniziale del secondo. H1 sarà minorupabile di H2, sicuramente, e l'anno di B1, O01, sarà minorupabile di B1, O02. Allora, sono tutti questi punti, qual è l'anno che è Sd, un minuto ad evo delle Sd. Cioè, se noi partiamo più a sinistra, con un dato iniziale meno energetico, con meno energetico, eh? Più che 0,1 e più più di 0,2. Mettiamo dentro un problema energetico, chiaramente, a 1,1. Il problema è che, naturalmente, si scioglie un viaggio, quindi è sempre un problema dell'essere. Come si dimostra questo teorema? Questo è interessante, diciamo che il primo, il primo, il primo, il primo passo, supponiamo che più, come sia strettamente, il primo passo. E supponiamo, per subito, eh? Se per subito, esiste un disegnale positivo, tale che, esiste un primo disegnale positivo, eh? Tale che, esiste un primo disegnale uguale a essere un disegnale, ragioniamo così. Per esempio, disegniamoci il nostro dominio. Qui c'è più di 1, qui c'è più di 1, qui c'è più di 1. Qui c'è S1, qui c'è S2. Supponiamo che, per questo disegnale, i due contorni si incontrino con la realtà. Beh, arriviamo alla relazione. Consideriamo la funzione di modo U uguale a U2 meno 1. Allora, fino a che segnale? Vediamo così che problema risolve. Quanto vanno qua, qui a sinistra, su X uguale a 0? 2X vanno evidentemente meno H2 più H1 uguale a 0. Corro? Sì. L'amministratto iniziale U2 meno 1 0.1 che è maggiore uguale a 0. L'equazione soddisfatta è che noi abbiamo visto la parola iniziale U2 meno 1, a sinistra di T1, qui inizialmente la sinistra di S1, inizialmente sono definiti entrambi le due funzioni. E sulla frontiera S1, V di S1 di di t e t naturalmente uguale al 1 di s1 di t, e questa è strettamente positiva, perché sappiamo che le soluzioni, e come ho restato, sono strettamente positiva all'interno dell'ultimo 2. Quindi, applicando il principio del massimo forte, a pevole, all'ultimo, si ottiene che la v è strettamente positiva nella 2. Quindi, la v è strettamente positiva nella 2. Quindi, è strettamente positiva in quello che abbiamo fatto prima, quindi è strettamente positiva di t e t segnali. Ma, quindi, v di s1 di t segnali e t segnali e 0, perché stanno tutti e due, perché vedete che quindi sia 1 di t e 2 di t, è un punto di minimo, è un punto di minimo, perciò, necessariamente. Vx di s1 di t segnali e t segnali e t segnali è, essendo un punto di minimo, è strettamente meno. D'altra parte che cos'è vx di s1 di t segnali e t segnali? E questo è, un punto di minimo e t segnali 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 e t segnali. meno s1 di t segnali e 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 t seg Quindi questo non è possibile, quindi questo ipotetico, questo ipotetico disegnato che alcune delle frontiere si incontrano, non così sia. Quindi in effetti abbiamo dimostrato che la S1 resta da sempre 1-1-1-2-2, questa è un'ipotesi che qui un po' sempre più piccolo debilità. Come si dimostra il scatto dell'errore? Vediamo che si fa così. Supponiamo che il primo psicologo. Allora, definiamo. Scusi? Sì. L'ultimo caso avevo... aveva un inaudito in caso in cui si possono intersecare, però non avevo detto che avevo restituto in un'unione di essere... Sì, perché S1 parte a sinistra da S2, quindi se parte a sinistra e vado a cuore, lo faccio un po' boccato e lo faccio sempre se ne sale. Questo è essenziale, che quindi non sia il numero di più due, sennò non è finito il risultato. In questo caso lo stanno restrezzando il primo risultato. In questo caso S1 assolutamente non avrebbe essere un esempio. Credo anche in un altro caso. Sicuramente vi considerate che S1 lo esprimerebbe. Comunque, diciamo, non ci basta neanche la domanda. Allora, in questo caso definiamo Udata e Sdata come una soluzione, come una soluzione. Quindi, per il problema, diciamo, di Stefano, di Stanford, la risoluzione del problema, c'è anche 1 più 1 uguale a più 2, che parte da Udata. Questa è Sdata e Udata e Sdata e Sdata e Sdata e Sdata. Cioè, prolunghiamo il dato iniziale a 0 con un pozzettino a destra e facciamo partire la frontina liberata. Bene. Allora, a questo punto, per l'altra parte, F1, Sdata e il problema di Sdata. Giusto? No, per l'altra parte. Cioè, non c'è altro per l'altra parte. Bene. D'altra parte, quanto vale Sdata? Oh, e attenzione, non solo Sdata è più grande di Sdata, ma anche Sdata è più grande di Sdata. Giusto? Per l'altra parte. Per l'altra parte. Per l'altra parte, si può applicarne anche un po' Sdata e Sdata, ma non c'è nessuna differenza. Giusto? Per l'altra parte, i dati sono esattamente buoni. Quindi, in eccezione, la Sdata è più grande di Sdata e quindi si mantiene sia proprio grande di Sdata. Bene, ma quanto fa esattamente Sdata t meno Sdata t? Ricordiamoci della famosa trasformata della t e della trasformata t. Quindi era, dunque, che cosa era? Vediamo un po'. Era b, quindi più 1 più 30. Escriviamo sul punto di meno di 1, ci si era poco. Poi c'è la parte dovuta ai dati iniziali e al contorno, ad arca, che nel caso di Sdata e Sdata sono esattamente uguali. Quindi, come ti parlo dire? Giusto? Ingegali? Ecco. Sì, è vero, qui ci serve essere 3 quali non più 1, tanto di dare la sensazione di Sdata da niente. Poi, ciascuno di queste due Sdata, per esempio, richiede di sottrarre l'integrale da zero Sdata di T più delta di Sd più x. Mentre S2 richiede di sottrarre l'integrale da zero Sdata di T più 2 di Sd. quindi questo è dita meno l'integrale da zero Sdata di T più delta meno 1, meno 2. meno l'integrale da S2 di T e Sdata di T più delta di T. Quindi questo è dita meno l'integrale da zero Sdata di T più delta di T più delta di T. Quindi questo di questo integrale è positivo. Anche questo integrale è positivo. Perché l'integrale da zero Sdata è positivo. Siccome c'è un segno meno davanti, ma questo è meno quale D. questo implica che Sdata tende a S1. Quando delta va a zero Sdata tende a S2. Perciò basta prendere l'integrale di queste due Sdata di T. E l'integrale di Sdata è uguale a S1, giusto? Quindi se volete non sono costruito questo riguadro. Quindi S1 è un riguadro del limite di T più delta meno 0 di Sdata e S2. Dopodiché, come vi mettiamo qualche argomento proprio affinato, si può far vedere che in questo caso, a meno che non siamo identicamente uguali, non lo siamo tutti. Ma pure l'interno del limite di T più delta meno 0 di Sdata è questo. Questo sarà un argomento tipico. Qua è una cosa che si capita spesso usare. Se fornitere si scopre che in diversa condizione di fornitera libera questa guaglianza qua, no anzi scusate, questa guaglianza qua, dà una condizione. Va bene. L'altra, l'ultima cosa che voglio fare, che si dica, ehm, diciamo che si fa in diversa classica, è uno strumento assintotico per il tempo che va in fila. Questo è interessante, forse dal punto di vista dell'interpretazione, del modello, diciamo così. E... Dice, sotto la lettera, che ho detto qua, S infinito, che è definito come il limite di T, che va definito di S infinito. questo esistenzializzato come il limite di T esistenzializzato. Questo è un concetto. E' uguale a da V più l'integrale tra 0 e B, più 0 di S di X, più l'integrale tra 0 che è finito di H di B. quindi, quindi, S alla fine, che è questo. Va, questo è questo. Ehm, bellissimo. Dimostrazione di questo, che è questo qua. Proviamo. Forse vale prima di dire cosa vuol dire, di interpretarlo, modellisticamente. Allora, essere definito, se volete, la quantità di ghiaccio totale, che è capace di sciogliere il nostro problema, è, beh, quella che era sciolta all'inizio, più l'energia che era presente all'inizio in forma di temperatura, e che è andata tutta a sciogliere il ghiaccio, più tutta l'energia che è rimasta, che era stata un po' da dentro, da questa, da questa, giusto? Va bene? Se questo limite è finito, se questo limite è finito, se ci ricordiamo quella che è la trasformata di S, e poi S, perché S è una trasformata in bella situazione, per esempio, questo è B, più l'integrale tra 0 e 2 di 0, più l'integrale tra 0 e 2 di H, meno l'integrale tra 0 e S di P, più di S di P, giusto? Quindi, come vedete, potrebbero sapere che faccio, perché io prendo il limite per il termine infinito, ma questo è quello che è, questo, non lo vedete, va all'integrale tra 0 e 2 di 2, questo è integrale, ma esiste che sia divergente o convergente, perché H è una trasformata di 0, e questo, che cosa fa? Eh, questo è integrale. Se io riuscisse a dimostrare che questo va a 0, sarebbe apposta. Va a 0, meno o meno? O. Sì, effettivamente. Si può dimostrare per altri modi che va a 0. O, o meglio, dipende, se il limite è finito o però, se il limite è finito o meno. questa, questa relazione vale per tutti, per tutti i comportamenti che si identificano. Allora, vediamo un attimino. Come si va a dimostrare questa cosa? Ehm, supponiamo, che il limite è finito o meno. Casuale. Supponiamo che il limite è finito o meno. Allora, a questo punto, basta dimostrare che S diventa illimitata. Se S diventa illimitata, il limite è finito. Allora, ricordate che noi, il numero 4 di MSN. La famosa stima di barriera che usiamo sistematicamente. Quindi, quindi, qui oppervere, da questa relazione esterissimo, che cosa oppure per noi? Che S è uguale di B più l'integrale di 0 più l'integrale di 0 più l'integrale di 0 più l'h meno MSN del quadro. Eh, se per più e più piccolo lì MSN quindi diminuisco se al posto di più c'è mettere MSN e poi c'è però MSN Assunto. B perché allora ora se ne è uguale a sinistra intendo che l'integrale è limitata. Mentre noi quindi questo non è possibile. Quindi, evidentemente, S non è S piccolo, non è illimitata e dunque e dunque non è non è possibile che la che cioè l'integrale è successiva che forza queste altre. Che succede invece nel caso B, eh? Nel caso in cui H l'integrale è l'altre del infinito di H effettivamente è comuno G. Questo è un caso anche di 3. Allora, in questo caso è un caso che è un caso che è un caso che va vediamo la cosa quindi si va a dimostrare che il lavoro è limitato. Ma, guardate, questo si può fare in differenza in differenza. Allora, prima di tutto, se l'integrale è limitato da questa relazione seguo il direttore che S è meno uguale a Db quindi S è meno uguale a Db quindi l'integrale da zero a B più zero più l'integrale da zero a infinito di H che posso anche chiamare S bene? S è limitato. questo informe implica che il limite per P che va infinito di S di D esiste finito. Chiamiamolo S di D. resta solo da dimostrare che è infinito che se ci pensate bene visto che questo integrale è fatto sull'intervallo limitato basta dimostrare anche che 2 elettricamente a zero. D'accordo? Questo diciamo effettivamente non è uno continua che va bene lo faccio per esempio stime vorrei fare un punto tecnico fare le stime per esempio quelle che si fanno come sopra soluzioni di coseno di x se avete una certa pratica di però vi ricorderete che esistono queste sopra soluzioni che si possono usare come sopra soluzioni queste hanno un problema se io metto usare questa soluzione c'erano due problemi c'erano due problemi in realtà il primo questa va bene in una striscia questo non è un grave problema perché la nostra S fa così quindi se questa è positiva nella striscia è positiva anche qui è così la nostra soluzione quindi questo problema non è ragione cioè questo lo risolviamo il problema è quale condizione mettiamo qua quale condizione mettiamo qua allora dice va bene qui dopo tutto scegliendo insomma questa soluzione esplicita in modo abbastanza diciamo ben fatto tu potresti soddisfare una condizione di 9 ma per una l'h più grande non è così chiaro io sull'h sono solo come sapete ho visto qualche volutile l'h non indica che l'h è uscita fondamentale magari troppo complicato quindi in queste condizioni andare a usare una soluzione esplicita esplicita quindi questo insomma si introduce anche l'argomento è usare un argomento che prescinda dalla rappresentazione esplicita risoluzione e questo argomento può essere il seguente che come al solito in questi casi è un argomento basato sulle sguaglianze integrali un metodo cosiddetto dell'energia che abbiamo usato prima per stimare il monofur raffinato l'int di S1 allora l'idea è vista moltiplichiamo l'equazione la pd l'equazione del lato parziale e integriamo l'inf per a a che cosa c'è per quindi facciamo un f beh se facciamo un quindi 0 uguale all'integrale tra 0 e t l'integrale tra 0 s di tau di x allora poi se vi ricordate da un 0 quadro all'istante iniziale guarderà un quadro all'istante t e poi darebbe qualche cosa ma quello che talga è 0 e quindi semplicemente scompare quindi qui l'integrale qua di un mezzo integrale tra 0 s t più x meno un mezzo integrale tra 0 p più 0 x più l'integrale più per x l'integrale per x con segno meno che cosa è? prima ridotto da meno ux per u calcolato tra x uguale a 0 e x uguale a s di d e poi l'integrale per 0 x x quindi x no quindi ci sarà un s di caldo va bene? questo è il sforzo della tradizione di caldo e di caldo e di caldo e di caldo più l'integrale tra 0 e t l'integrale tra 0 s di caldo di ux quadro e di x e di caldo l'integrazione di caldo basta c'è altro allora siccome tutto quello è uguale a 0 porto di là io con le quantità l'unica quantità positiva che è quella della dimensione guardiamo e viene qui moltiplici come due l'integrale tra 0 e s di più x e t al quadrato x più l'integrale tra 0 e t per l'integrale tra 0 e t ux equale x equale più uguale di l'integrale tra 0 e t di 0 e t x che è una erogiana Perché ero già? Siamo sicuri? Beh, siamo sicuri se questa quantità qui è positiva. Va bene? Ma è vero che questa positiva oppure la risposta sì, perché in S e in T, U è 0, che si riusciva in questa roba a spostare. Vero? In X uguale a 0, U è positiva, UX è negativo. Sì, c'è un segno inizio, non è questa cosa? Ah, no, è vero, è vero, è vero, è vero, X uguale a 0, U è positiva, U è, UX è negativo, ma c'è un segno inizio, quindi questo è positivo, tuttavia sono nel punto estremo, quindi alla fine è il punto estremo, quindi effettivamente, ma riusciamo a portarcelo di là e non andiamo a scriverci che cosa, attenzione, l'integrale fra 0 e Q, però a questo punto maggiore lo vuol usare un minuto. U di che cosa è il titolo? Di n per s. Già trovato questa cosa, giusto? Esiste, sicuramente in questo caso la S è più piccola di quale s grande, questo lo conosciamo già. Quindi U è meno uguale di n per s e UX, che scrivo quello che è, è A, capital, un'unità, questo è l'integrale, con un tipo infinito, quindi tutto questo alla fine è di un ruolo e di una costante C, per un minuto. Torna questo? Beh, allora se questo torna, abbiamo praticamente finito, perché? Senza stare a fare con gli altri punti, cosa? Si vede, si conclude, o se questo torna sceglie così per faccia di esercizzi, questo integrale converge di, come dire, descrivo la scaletta della soluzione della dimostrazione, quindi della soluzione dell'esercizzi e dell'esercizzi. L'integrale tra 0 e l'infinito dell'integrale tra 0 e s caldo, U di squadra, converge, è meno dell'infinito. Questo significa, si può vedere, che anche l'integrale tra 0 e l'infinito dell'integrale tra 0 e s caldo, U quadro, converge. Perché, semplicemente, si scrive come l'integrale tra 0 e s caldo, U quadro, U quadro, U quadro, U quadro, U quadro, U quadro, U quadro. Però, in realtà, questo implica che tutto l'integrale tra 0 e s caldo U, N, U quadro, U quadro, U quadro, U quadro, U quadro. Dimentichiamo che in un momento la maggior azione, rimaniamo a questo come l'azienda. Allora, l'integrale è questo. Questo è l'integrale di testa monstrenale. Questo è uguale a una cosa s più una cosa s più una cosa s più un limite perché è crescente. Giusto? O meno una cosa s. Meno questo integrale. Questo integrale è convergente. L'integrale è convergente, è quello che è mostrato qua. Quindi ho un limite antifino. Quindi anche questo integrale è un limite. Perché è uguale a cose che hanno un limite. La somma di cose che hanno un limite. Perciò, se la sottosuccessione va a 0 e lo dico, va a 0. Fine della storia. L'abbiamo dimostrata che questo integrale di va a 0. Molto con l'applicazione della sottosegnazione della sguaglianza di età. Quindi abbiamo concluso la dimostrazione. Abbiamo concluso la dimostrazione. Prendiamo il limite qui e si vede che Sbd converge effettivamente a quel famoso Sbd. Quindi, diciamo, questo serviva solamente, se questo è una situazione che ho avuto a fare cammini, con questa difficoltà presentata dalla possibili. L'irregolarità dell'H è totalmente trasparente e totalmente irrilevante a questo momento, dove si basa esclusivamente sull'estima integrale dell'H. Quindi, quello di noi, se ci interessa dell'H, è che questo integrale converge. Poi, gradualmente, questo è il regolare con l'H. Questa è la bellezza di questo pentolino. Va bene? Ho trovato, così metterò sul sito mio, questo Andreucci ed il PMM, che sono il titolo del dipartimento, le lezioni di questa scuola. e appunti. Quindi, dovete scaricare. Questo lato dietro, anche la stampa, quindi se mi interessa, posso andare. Però è la consiglia di provisioni. Adesso, ora, poi, mi trovo sul sito anche quella provisione. Allora, però, se mi produzo lo stesso. Poi metterò anche nella definitiva la sede del corso. Poi, mi sono preso a mettere qualche cosa. Direi che, da parte, sulle soluzioni classiche del problema di Stefano, questa dovrebbe essere servita a, sostanzialmente, per capire che il progetto di Stefano fa il numero di tecniche semplici, che si usano, nel caso semplici possibile, in una fase, in una dimensione spaziale, per far capire come il problema, anche in questo contesto, con certe difficoltà tecniche, effettivamente, e far vedere come, effettivamente, si sia usato, in un modo pesantissimo, in tutte queste argomenti, il fatto che la formulazione è in dimensionale, che si è semplici, che sostanzialmente, il contorno libero al mondo. Eh? Il contorno libero al mondo. Questo è essenziale. Allora, passiamo invece alla... Alla cosa dire? La formulazione tecnica, più quella di Stefano. La formulazione tecnica, di quella di Stefano, risale a... credo... Gli anni Sessanta, sostanzialmente, non più dovuta a... Brusse, che evidentemente, non so esattamente che fosse stata fatta qui, Olienic e Carlo Borse, che sostanzialmente avevano il problema di eliminare la fontina liberata al problema, perché la fontina liberata, l'attività liberata, è quasi trattata, non trattata in una volontà di fronte. Un volontà di fronte. Si noti che quella soluzione, che lui parlava prima, trovata pure dal meritoio, un ritevole, Germano, vale questo, due intervalli piccoli. Un generale non c'è, potrebbe una resistenza in grande, perché l'offro, in quel punto di studio, che dicevo prima, ha visto anche che la fontina si spanda sempre. Per esempio, se io ho una superficie, che in qualche modo è piegata, fatta così, per esempio, diciamo, la virola all'altra, all'istana mensale, la superficie è fatta, qui è positivo, qui è positivo, qui è negativo, questa è la forma della formazione dell'istana mensale. E' chiaro che non saranno successivi. Io mi aspetto, questa cosa, così. Quindi è chiaro che nel mezzo non c'è speranza, nel caso multidimensionale, di avere una soluzione per tutti i tempi, con frontiera di una superficie liscia, nel senso, non funzionare il tempo. E' chiaro, quindi, che è bene, e bene, beh, c'è una speranza, c'è, sì, io ho visto che succedano cose di più scelte, però che non mettere nelle porte esigilometri speciali, con quest'ità, quindi è bene trovare un sistema più nativo per descrivere la situazione da un sistema in più dimensioni, infatti, con le dimensioni solo, che è prescinta dall'apparenza esplicita della frontiera. come si fa? Si può fare diverzioni. Comunque, il modo più semplice, quello che si vedremo oggi in giorni, vedremo un altro, poi è lo stesso, è un modo diverso per evitare a questa stessa innovazione, è quello di tornare un attimo al significato, al significato medistico del nostro problema. Ragioniamo, che cosa dice l'equazione del frattore. L'equazione è un bilancio dell'energia e dice la variazione locale dell'energia, a differenza di questo punto, ecco, non ci sono costanti capacità terroriche, cose di tanto intorno, la variazione locale dell'energia, che è proporzionata alla strumenti alla separatura, è data ad una differenza all'isturso che si fa l'ipotesi di Fugli è la divergenza che viene in effetti. Va bene? Questa è la consiglia di fare, lascio così, bilancio, direi, Il problema è questo. Il problema è il cambiamento di stanza, per esempio, se voi, diciamo, il problema è questo. Chi trasporta energia è sempre in funzione di varie, che, sempre è l'ipotesi di Fugli, è la divergenza. Però, questa volta, la variazione locale dell'energia ha un'energia di Fugli che ha un'energia di Fugli. L'acqua a temperatura nulla ha un'energia che è maggiore del ghiaccio a temperatura nulla nelle differenze e a temperatura nulla. Quindi, qua, non ci devo mettere formato l'interno, questa cosa si prende la vostra formata, non ci devo mettere l'interno ma ci devo mettere W, dove W non è la W ma è fatta da chiamare l'entabilità in una variazione dell'energia fatta questa. W è U dove W è migliaccio cioè, nel ghiaccio dove la temperatura è migliacità sta bene? W è W quando sono nell'acqua cioè nella temperatura positiva W non è U non è U perché ci devo aggiungere quel pezzetto di calore della tecnica che ho funzionalizzato D'accordo? Dove W è 0? V non non si sa neanche però non può essere all'intervallo zero non può essere all'intervallo zero perché negativi non hanno una velocità interrompia tra cui diciamo tutta acqua piaccia osservate che quando la temperatura tende a zero W e vi ciò mostra la possibilità se la temperatura tende a zero da destra cioè rimane in un'altra v tende a u se tende a zero quindi in linguaggio matematico W si dice su un granfo ed è rappresentata in questo motore ecco questo è tutto naturalmente a questo livello ecco questo è il livello molto semplice quindi mettere direttamente dentro l'equazione dentro l'equazione il salto energetico che nel problema di Stefano di formulazione classica è tradotto dell'esistenza della fronteina libera la cui evoluzione il cui è sepulto è proprio da parte della partente dato dalla flusso come si è trovato qui è la stessa cosa dice l'evoluzione dell'energia scusa l'evoluzione dell'energia è data dal flusso però l'energia attenzione contiene anche quella partente questo è l'idea problema immediatamente successivo beh ma che vuol dire quell'evoluzione dell'altro tu stai in bilancio rispetto al tempo la funzione è una linea continua ammettiamo pure che la russia è continuissima ma v non è continua quindi c'è qualcosa addirittura nel problema che sappiamo già l'esistenza sappiamo per certo che v non è continua attraverso la frontiera sd che abbiamo mostrato c'è una frontiera sd crescente sotto questa luna definita così quale 0 identicamente perché è il viaggio che non è dato nulla sopra immediatamente che è acqua a temperatura luna sulla frontiera quindi abbiamo portato in mano che la luna è continua come fai a definire quella derivata e qui interviene la formulazione che ora andiamo a schiena ok si moltiplica una definizione come dire profusione quindi di formulazione regole il problema quindi di Stefano si moltiplica questa equazione ipotetica a cui dobbiamo dare lo significato per questo per una funzione fi che si chiama uniamo in C0 infinito forse C0 è un'uso quindi è sufficiente diciamo C0 infinito dove Qt è il dominio spaziale ω intervallo spazio temporale scusate Z diciamo che il nostro martediale l'acqua riede un dominio ω lo consideriamo finora benissimo quindi fi è una funzione di spazio e tempo moltiplichiamo una cosa notate che è a supporto compatto il nostro cilindro quindi ignora completamente il quadro il dato iniziale in questo senso dicevo che questa è una formulazione che non bisogna poi dovremmo trovare un modo anche di coinvolgere l'altro iniziale comunque per ora questo è già basta moltiplichiamo intervallo intervallo e poi intervallo quello che si chiede è l'integrale di di meno v fi di più il gradiente più salato in gradiente di fi indizio indirizio e questo è il senso questa è la formulazione di cioè si dice che una v risolve la nostra formulazione di che è debole se vale questa varianza integrale per ogni fi in in questo spazio purché naturalmente tra la v esista quella relazione quindi se vogliamo essere più precisi v dovrà essere nello spazio di sole un doppio 1 1 beh siamo allora lasciamo così il gradiente di u dovrà essere in n 2 v dovrà essere in n infinito di v deve appartenere a e e questo grafico si denota con e questo grafico lo chiamiamo e e e e è queste sono scritta così è già una definizione della soluzione deboli del problema di stefano ammesso che possiamo prescindere iniziare iniziare iniziali 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 diciamo diciamo cattuli la nostra idea di problema di stefano questo è questo è quello che c'eremo dimostrare c'eremo dimostrare che questa incalculazione della soluzione questa definizione di soluzione effettivamente è questo è un conto un po' rugoso in un certo senso però vale la pena fare perché effettivamente convince di questa interpretazione giusta è veramente sorprendente che un reaggio semplice banale conduca ad esempio diciamo al momento che da punto di vista matematico in realtà è così complicata soprattutto la luce delle formulazioni basse come il problema di stefano prima di fare questo però occorre parlare di superfici mondiali sapete che cos'è la velocità normale della superficie? vediamo supponiamo di avere una superficie s che è mobile nel senso che vediamo per evitare la stessa posizione che cos'è dato qui sì cioè distante di la posizione di s è data dalla pixel rn tali che una certa funzione figurante x è z se io commento la dipendenza da t questo è un modo standard per dare una 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 funzione pur che certo con il gradiente di fil gradiente di fil gradiente di fil di di che è un uguale per un di precisi indicherò un gradiente di di invece non si dice un gradiente spaziale Allora, supponiamo di avere un punto, un moto, sia il punto, un moto che appartiene a essere un punto che si muove, come di pare, un soggetto alla sua condizione che si appartiene allo stesso processo. Potete pensare a una sfera che si sta gonfiando e a un insetto che ci cammina sopra una volta. E' fascinato da quando un uccide un sforzo. Benissimo. Allora, evidentemente questo è equivalente a dire che f grano di x di t è zero, giovane di t è nè, giovane di veicunico ango. Bosa significa che gradiente di gb, gb, d di scalare x più i per la differenza costante, più fitti, fitti, x, fitti e fitti, questo è allora, se noi introduciamo la costruita normale spaziale, associata a superficie mobile di s, n, la normale spaziale, è data dal gradiente di fitti, quello spaziale, diviso, ovviamente normalizzato, diviso in modo di gradiente. Allora, immediatamente, con il dato della cosa che abbiamo scritto là, dividendo per il modo di gradiente spaziale di fi, da che x punto scalare n uguale meno fitti, 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 diviso il modulo del gradiente. osservate che questo prodotto scalare, che di per sé contiene la velocità x punto, non contiene x punto a destra, quindi il prodotto scalare non dipende da x punto, ma solo dalla posizione del punto sulla velocità del punto, ma solo dalla posizione del punto sulla superficie. quindi è questo, questo oggetto, questa quantità, indipendente da x punto, dal senso di ordine a livello, si chiama v, velocità normale. Dottoralmente, la velocità normale, di per sé, di finitamente un segno, perché potete sempre cambiare il segno di fi e quindi potete ottenere un segno diverso, quella che si chiama, però, diciamo, una volta fissata la fi, secondo te, la m e la t, quindi la città normale e quella t, insomma, con tutte le normali, questi soggetti hanno cambiamento di sede. Va bene, questo è un oggetto, la città normale, è un concetto estremamente importante del problema all'istema. Per lo meno, diciamo, noi veramente non lo utilizzeremo tantissimo, perché faremo la formulazione debole, ma se lo facesse, come vedete allora, la formulazione classica del problema all'istema di più dimensioni, sicuramente avrebbe anche fare questo, come potremmo fare anche questo. Prima di vederlo, prima dell'avanti, fatemi introdurre un altro pari di concetti interessanti, a una, che sono questi. La normale completa, che abbiamo lato scritto in uno, questa è la normale spaziale, eh? La normale spaziale. Invece, la normale completa, quella che vive in uno spazio, è il punto, R, questo, è una NU che è data da una NU spaziale, NUX, e da una U NU temporale, NU P. NU P è uno scalare, che è una componente, ma non può entrare, ma invece NUX è un numero, è un numero, è un numero di R. Non è NU, attenzione, non è NUX, non è NUX, perché NU, a che cosa è romano, a che cosa si è andato, a che cosa si è andato, a che cosa si è andato NUX. E NUX è evidentemente il gradiente spaziale, ovviamente, diviso però per il modulo del gradiente corretto, perché non è NUX deve essere un volumitario ormai che è NU. Quindi, è effettivamente, però, riporto di plecata questo colore, questo fattore, il modulo del gradiente spaziale è un modulo del gradiente, quindi questa è una cosa a tenere presente. Mentre NUX, vabbè, questo è facile, quindi il gradiente è F e T diviso il modulo del gradiente che, di nuovo, se ci tengo, posso scrivere con la parte del segno meno, con la spiaggia del segno meno V per questo stesso fattore, il gradiente spaziale, il gradiente spaziale, il gradiente che ci serve da dire. La parte di sinistra è essenziale, cioè quella ci dice, ci vado a vedere, è la definizione che vi consiglio. Benissimo. Allora, vi cancello e vado a cercare di spiegarvi che cosa mai vorrà direttamente quella definizione di soluzione debole che è stata data adesso. Le soluzioni debole, in principio, possono essere fatte anche domani. La fase di ghiaccio dell'acqua possono essere mescolate in modo regolare, però supponiamo un momento, perché qui è meno semplice, cosa prescrive quella formulazione debole, supponiamo che v sia una soluzione debole, struttura. Ma regolare, cioè da le t esiste una superficie s di t, come sopra, invitata, per esempio che dividi QP in due, sotto in questo qui insieme, A, che è poi in questo qui insieme numero 1, è un modo cambiare di ambientazione. In A è positivo o negativo? In A è positivo, in A è positivo, quindi è la fase solida, e B, quindi è la fase solida, quindi ovviamente S sarà un continuo, diciamo, di più di sopra, quindi, quindi, inevitabilmente in S è divisa da zero, quindi la frontiera libera, tra virgolette, la zona numero 2, ad esempio, è la superficie S, poi non puoi pensare a questa superficie che divide il nostro ciclo. Questa superficie vuol zero, da una parte positiva, da una volta negativa, ma quella non è solo questa, d'accordo? E perché più supponiamo che sia il ciclo in un punto di A, vanno anche il ciclo in un separatamente, la sua parte proposta, il ciclo in un punto di giusto. Cioè sia regolarissima, abbia risolto proprio l'equazione del calore di modo standard, a destra e a sinistra della nostra frontiera libera. Questo in generale non è vero. L'ipotesi che facciamo ora, per dire, supponiamo che ci spingiamo il più là possibile a dire la nostra funzione del governo classico. Allora di che cosa? Il senso classico e soluzione? Quale formazione classica sono? Posterbazione. Potrei aggiungere qui che v, anche lei, continua? Non davvero, perché io sono per certe, in queste condizioni, che v. 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 V è il discorso di un S. Quando arrivo a S dalla parte di A, V va a U. Rivolgiamo la struttura. Quando arrivo a S dalla parte di A, V va a Z. Bene. Allora. V. 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 Qui. cominciamo a analizzare quella cosa da subito supponiamo sia il supporto no, non ci preoccupi allora con il tempo l'integrato su tutti di meno 1 per fi questo lo divido nell'integrale fatta su a di meno 1 per fi e nell'integrale fatta su b di meno 1 per fi non c'ho a non sto perdendo nulla l'essere la superficie l'integrale 0 per fi l'integrale fatta su a v in a v è semplicemente u più 1 mentre l'integrale fatta su b v è u bene integriamo la parte in a in a in b disegno qui c'è a qui c'è b questo è il supporto di fi quando io integro in a per parti in tutta questa zona qua non ho termine di bordo perché fi è 0 qui si quindi applicando il tema dell'emergenza ottengo un termine di bordo solamente su s che potrebbe essere attualmente chiaro il discorso? perché il fatto che la fi abbia supporto spettamente a un f e quindi evita di avere qualsiasi la termine di bordo bene la fi è inserito però la s la potrebbe anche che è inserito allora che cos'è inserito? questo è l'integrale insomma fatevi una stivore l'integrale numerale tiene 1 più 1 t perfetto questo è il termine di grazie a me per chi ha per la e di qua tiene più l'integrale subito più t perfetto per inciso se abbiamo sul punto di un più così il modello t di questo bene però così così dopo lì che cosa viene invece su s su s su s quando arrivo da a vi viene l'integrale su s il primo integrale è quello nei tempi il secondo integrale è quello su s superficie di che cosa? è o 1 più 1 ora è il segno quello giusto u più 1 per fi questo dice il trema di divergenza hai la funzione per calcolato su un po' bene la funzione quindi fatemi mettere un a più sicuro e anche qua la a indica i limiti della funzione fatto su s provenendo da per l'anutti l'anutti la componente della normale giusto? che è relativa alla variabile rispetto a come si stava facendo la elevata quindi in questo caso la variabile tempo in questo caso la variabile tempo questo punto lo devo fare la scelta e definire se il tempo è positiva o negativa ma esterna abita diciamo più esterna abita essendo esterna abita attenzione essendo esterna abita facciamo un po' di giochi di sedimento cominciamo prima di tutto ci sarebbe un segno meno perché qui c'è un segno meno e questo va bene poi qui devo metterci la componente rispetto a t alla variabile tempo della normale esterna a a che però è meno nulla in questo punto quindi un altro segno quindi alla fine qui c'è un e qui c'è lo scrivere un questo è l'integrale di superficie non ce lo scrivo ma è fatto rispetto a sigma rispetto al tema bene qua l'integrale dal zero del pi dell'integrale fa 2s di che cosa? stesso discorso vari pari u provenendo da fi provenendo da b di questa volta ci deve mettere la derivata la componente della normale esterna b che è proprio quindi il segno stavolta è meno di origine ricorda? allora a che passo è uguale tutto questo oggetto? vediamo se ci facciamo la scritta ma è uguale all'integrale fa su di 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 più uno solo di questi due sopra di chi? questo perché questo fa zero torna qui fa zero un b è zero sulla sola filiera un fa zero sia da destra che da sinistra quindi questo è zero sotto c'è fi tra l'altro non dipende anche lui in questo caso non dipende da destra da sinistra questo comunque è zero questo viene integrato di fi perché ci non lo c'è quindi rimane integrato di fi quindi viene integrato 4 fu s di fi un p va bene? ok ora l'altra parte quella che ho che c'è l'integrato è fatta sul fi di gradiente di scalare di gradiente di in in x di questo come sopra è l'integrale fatto su a l'integriente di più l'integrale fatto su l'integriente di per l'integrale osservate che U è continuo dall'integriente di un uomo e ha fatto di ipotesi che U sia continuo a far parte di queste ipotesi ma in gradiente di un uomo abbiamo messo l'ipotesi infatti di un uomo e infatti di un uomo allora stessa integrazione tra i parti stessa integrazione tra i parti allora questa se ci do la fi per l'ambasciano di l'integrato in a è la stessa cosa qua meno l'integrato di fi per l'ambasciano a questo punto per esempio consideriamo il termine fa più a se lo for più a questa è l'integrato in l'ambasciano attenzione se piegiamo su l'an di nuovo l'integrato in l'ambasciano l'intergenza sulla parte esterna del supporto ovviamente che fa 0 ma cazzo tutto rimane solamente l'integrato fatto su s quindi questo è l'integrato fatto su s di che cosa phi per l'integrato di scalare mi dice il problema di l'errogezza la componente spaziale perché questo è la componente spaziale della normale completa esterna siccome l'u è la normale esterna simbrabbi proveniente là c'è un segnamento e qui lo mettiamo qui lo chiamate l'uiz la componente spaziale che è una linea di un uguale di c'è un uguale di no un uguale di tro grazie e qui ci metto un altro ci metto un altro che questo è una linea che arriverà questo sarà importante a preferenza di lì guarda dunque mi sembra che guarda bene e va la stessa cosa solo che ci muore un più perché naturalmente è normale quella giusta in questo caso qui la quella esterna e la cliente devi scarcare la testa beh mi sembra che non ci sia altro a questo punto mettiamo tutti insieme che vuol dire mettiamo tutti insieme io so che la somma di questi termini fa 0 io so che questo pezzo più quel pezzo la storia di inizia fa 0 questa è la definizione quindi evidentemente la somma di gestione di mezzi quindi cioè questo è un termine e questo è un termine quindi alla fine quello che io so è che l'integrale su Qt di avendo sto raccondendo alla fine più t meno e la lasciando più cioè di più l'integrale fatto su S di che cosa di questo oggetto qui FI per il gradiente più B scalare meno gradiente di A scalare di S e poi devo ancora sfumarci più FI di B e questo va bene? conseguenze 1 prendiamo cosa viene prendita il supporto di FI contenuto presente in A in questo caso il supporto di FI non interese da S questo significa FI e 0 su S e si ha che però questo è una cosa semplicemente l'integrale sta di D meno traspasciano di FI 0 però FI è praticamente interese FI dunque per la continuità supposta di queste istruzioni da fare presente QT meno la facciamo lì è 0 finale nel senso basso esattamente nello stesso modo vale l'artica QT meno la facciamo lì è 0 quindi intanto ho dimostrato che una soluzione classica del problema di sistema che è abbastanza regolare è fatto una soluzione classica dell'equazione del calore a destra a sinistra ora però vediamo la cosa più interessante quale condizione di frontiera di la solissima sulla frontiera anzitutto che U 0 vediamo che cosa ci dice a questo punto o questa cosa bene osservate che a questo punto questo primo pezzo in realtà io ho dimostrato che 0 qualunque se per filosofia interseca la frontiera di perché intanto questa parentesi 1 è 0 la 2 si fa 1 di 2 è una parentesi 1 è 0 quindi la se quello ormai è lo scelgo quindi cancelliamo questo diciamo le scriviamo rapidamente a parole come scelgo phi a questo tempo quindi passo 1 questo sia s allora prendiamo phi in questo modo scegliamo phi uguale a una segnata psi che sia a supporto compatto in s cioè in sostanza ha una funzione phi definita su s a supporto compatto potete pensare se s è questa la sfera che serve un piano ha una funzione qualunque la traccia ha una funzione qualunque c'è infinito c'è infinito su s dopodiché però impugniamo a phi di essere molto molto con un supporto molto stretto diciamo che phi è sicuramente 0 è fuori questa strisciolina e questa strisciolina è di una vezza epsilon unico supponiamo che la misura di il voluto del supporto di phi prendiamo phi e x e abbiamo un undice va a 0 e x e grazie che è insomma quello che allora si io qui divido questo volume insomma quello che alla fine è è che è fatto su s quello che vuol dire alla fine è che questi questi sono in classi giusto si è vero che formalmente io devo metterci una phi che proviene dalla funzione c0 infinito però una comunque psiche c0 infinito su s proviene dalla funzione che è c0 infinito per esempio di fatto questo va beh non diciamo il fatto che il suo supporto vado a 0 non è importante comunque quello che conta è che io ho dimostrato a questo punto che integrare il fatto su s di questa s che è in area per che cosa riscrivo tutto in un punto scuro allora l'unix in realtà è n per questa differenza per questa differenza di questo pozziente scusate di gradienti quindi qui si ha gradiente più a scala n meno gradiente più b scala n meno gradiente più a scala n il fattore lo scrivo dopo puoi dover scrivere più nuti ma nuti è meno f 1 e più e meno e meno f e poi c'è questo fatto 2 gradiente di f in modo diviso gradiente completo di f allora ecco c'è questo questo è un termine posizio di protezione questa è una cosa arbitraria quindi questa è una cosa di protezione perciò per la libertà di ossia vale che gradiente di uv scala n meno gradiente di uv scala n è uguale a v la velocità su s e questa è la seconda condizione di l'iper proprio uv al z se voi riscrivete sta cosa nel caso del quale presegizio della uv cioè nel caso l'uvo condizionale scoprite questa esattamente la condizione di stef scoprite questa esattamente la condizione di stef osservate che si è ipotizzato che la nu sia esterna a b cioè punti dentro il liquido punti dentro il liquido quindi questa è una scelta sostanziale si decide cosa è liquido e che cosa è solito va bene quindi sostanzialmente abbiamo trovato che la soluzione debole soddisfa l'equazione se è abbastanza regolare l'equazione del calore delle due fasi e questa condizione di stefano sulla frontiera libera di nuovo questa condizione dice che il bilancio dei flussi il flusso totale che arriva alla frontiera libera è proporzionale se il problema non fosse dimensionalizzato è proporzionale alla velocità della frontiera la frontiera avanza una fase contando più velocemente come per esempio l'avanza del viaggio diciamo professore deve quanto più calore avviene alla frontiera e permette di sciogliere il viaggio quindi diciamo la formulazione debole contiene quella semplice formulazione integrale che abbiamo visto contiene non solo l'equazione del calore della testa sinistra della frontiera ma contiene anche la condizione di sciogliere la frontiera potrebbe fare il contrario cioè potrebbe imporre una soluzione classica di queste due equazioni di questa condizione di Stefan che diventa 0 sulla frontiera e tornando indietro facendo il frontiere contrario a liberare la frontiera di sciogliere bene e questa è anche una contrazione del mondo quindi perciò ci siamo convinti abbastanza che la formulazione è effettivamente la formulazione del giusta perlomeno formolver del problema di Stefan in dimensione nel senso che appunto eventuali soluzioni ideologiche molto regolate in realtà sono soluzioni di questo problema classico naturalmente lo dico per l'inciso uno potrebbe divertirsi facendo un po' di giovedere differenziale a ritrovare una condizione direttamente ad un argomento fisico-matematico fatto all'inizio cioè facendo il bilancio di energia quanta la piaccia vuole per scioglie un cedito di ghiaccio in questo caso la normale alla superficie eccetera eccetera secondo questo si potrebbe fare cosa che hanno fatto di convincere che questa sia la formulazione giusta comunque diciamo il fruttore poi per quanto riguarda noi accetteremo la formulazione deboli della restante del quadro che ci manca oggi accetteremo la formulazione deboli del problema di stefani come l'abbiamo messa e da quella partiremo per cercare di dimostrare esistenza di unicità queste funzioni come vediamo un po' va bene allora prima di tutto diamo una formulazione più precisa ma è questo è un punto del problema di stefani prima di proseguire per chissare il problema che consideriamo è questo formalmente vt meno l'ambasciato di v uguale a una formazione in vt dal veribata v in pieno uguale a zero sulla frontiera di omica quindi condizioni di norma di nulla per semplicità e poi vdx è zero uguale a una certa v zero di x in Africa all'istante iniziale questo è interessante posto in base all'istante iniziale non basta prescrivere la temperatura bisogna prescrivere anche l'energia non basta salire perché dove u è positivo o è negativo vabbè lì ci ha soli quindi qui lo si sa ma dove u è zero dove u è zero non so dove ho ghiaccio o dove ho acqua o perlomeno debbilevo saperlo però non velo lì c'è la temperatura l'unica cosa è più quello potrei anche avere le zone del sineto dove la v sta tra per esempio uguale identicamente a un menzo un scubbio di acqua e ghiaccio che ha uno stato energetico intervento di un menzo questo non è quello che lo fa le condizioni sui dati sui dati sono che è il infinito di tutti e un zero è il infinito di tutti naturalmente un e un e v sono legati dal solito la sua terminazione che conviene scrivere così definiamo la funzione theta 1 theta 1 theta 2 per definizione e v se v è negativo meno uguale 0 0 se v sta tra 0 e 1 v meno 1 se v è uguale 1 non la disegno perché mi manca lo spazio è esattamente l'inversa della funzione di là fuori vista prima visto prima quindi e v fino a 0 poi ho un pezzo piatto da 0 e 1 poi riparte disegniamo e adesso la temperatura la temperatura è effettivamente zero quindi il cambiamento di fase non è inabilità cioè fungire energia intermedia è liquido liquido più questa e la solito che questa bene e poi dopo la temperatura seguire un po' vedete allora dentro tutto ciò c'è una definizione una v di meno definito di essere un'isogna di questo problema se θ v è lo spazio che si chiama il quadri del quadri di 1 di 1 in un modo di omega eh allora vedete di un po' più di omega c'è ah qui la realità che c'è ogni insomma il feriente n e va che il grande su qt di meno v f più gradiente di θ v sparate dall'ente c e se tutti i terrentesi è uguale all'integrale su t di f per fi più l'integrale su omega più zero di x per fi x 0 questo significa il cambio di e questo deve essere vero di tutte le fi che si danno beh c'è anche qualche mezzo ovviamente che lo la scriverò va bene questo lasciamo così per il momento per tutte le fi che stanno in W1 2 questo deve essere vero che ogni fi che sta in W1 1 2 2 quindi capite la rete rispetto allo spazio rispetto al tempo questo è una finita che pesa nel senso del traccio W0 è data iniziale la funzione infinita F è una funzione infinita moltiplicata per la funzione del 2 si contegga e questo è la nostra formulazione ok 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 prima questo ho voluto avere subito che si chiama con l'intergenza diciamo però prima di cominciare la situazione matematica del proprio dobbiamo ancora parlare su cosa continui in l'interno cominciamo da un esempio questa è una soluzione debole regolare quindi vedremo che questa soluzione debole regolare è abbastanza diversa dalla soluzione classica non ci potremmo aspettare e nonostante che sia regolare non è solo una soluzione di regolarità una soluzione debole non è diversa dalle soluzioni classiche dell'occasione della lunga di strutture che è più regolare no ci vogliono una struttura assoluta allora vediamo il caso è esattamente come abbiamo visto qui diciamo che in questo caso f è identicamente 1 è nuve da direzione 1 omega è intervallo 1 e da iniziale con 0 is sempre è identicamente meno 1 meno 1 vedete in questo caso con istaventure si intuisce che dà come dire la simmetria tutto è costante rispetto allo spazio la soluzione sarà costante anche quella rispetto allo spazio chiaro dipenderà solo dal tempo disegniamo facciamo un altro fotografico qui ci metto il tempo e qui ci metto la soluzione di t come fa la soluzione di t quando t è 0 parte la meno 1 e la soluzione a una soluzione di t se questa fosse la soluzione dell'equazione del calore direi se v risolvesse l'equazione del calore si avrebbe se v risolvesse l'equazione del calore e v sarebbe semplicemente la soluzione di t di 40 quindi tu sarebbe meno di 40 quindi tu sarebbe non è così se voi provate a mettere la soluzione di 90 a forzare la soluzione di 90 qui dentro non ne fegno nulla e dove fa il c è proprio questo punto qui questo da no perché quando non c'è v e qui invece c'è il tet di ma il sospettario quando non c'è v e questa v deve saltare attraverso il valore della temperatura che sono scritto e quello non sa la soluzione vera quindi non è la soluzione vera è fatta questa vi lascio un po' a voi da controllare i semplici dettagli tecnici allora si parte con una fase che all'estate iniziale è completamente solida quindi 2-1 il riscaldamento volume che si dice proporzionale ad una funzione f costante riscaldano riscaldano interpi aumenta 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 con bellezza 1 e finché arriva a 0 a 0 si è avendo tre fase al tempo 1 cioè inizia a inizia a fare le le tifo quindi al tempo di 1 qui c'è il risonio al tempo 2 inizia a fare le tre fase quante due fanno le tre fase l'an 1 2 1 2 2 3 2 6 6 Quindi, se U risolvesse l'equazione del gelatore, se fosse la temperatura e la risolvere l'equazione, si dovrebbe avere una cosa falsa. Il cambiamento di fase finisce quando la FU, che continua ad essere sempre arrivata alla FU, raggiunge la quota 1. Quando raggiunge il quota 1, il cambiamento di fase è finito. Giusto? Perché per definizione, diciamo, la FU ha cambiamento di fase a temperatura finita, è compresa da l'energia minima a temperatura finita, che è l'energia massima a temperatura finita. L'energia minima corrisponde a solito a temperatura finita. L'energia massima corrisponde a liquido a temperatura finita. Quindi, il cambiamento di fase è finito. Questo, ovviamente, è T2. Quindi, attivo l'energia, il cambiamento di fase è finito e per distribuire l'energia massima si ha una fase pienamente libera. Questa zona leggera, tipicamente, in generale, si chiama una regione massima, massima della FU. Cioè, è una zona in cui è scovata a acqua e ghiaccia, sostanzialmente. C'è una fase pienamente libera. Attenzione! Quella è veramente libera. Ma come è fatta la FU? La FU non è fatta così. La FU, ricordiamoci, che è la TETA dell'energia. Quindi, la FU, la FU, che è la TETA dell'energia, che di sempre infermite, è fatta così. Finché l'energia minima coincide con la FU. Va bene? Sì. Mentre la FU è il franzere numero 1, cioè durante il cambiamento di fase, la U è semplicemente Z. Se vi ricordate l'energia TETA dell'energia, la U è semplicemente Z. Quando poi, FU diventa il cambiamento di uno, ogni parte, effettivamente è V1. Va bene? Quindi, la temperatura nel liquido è effettivamente positiva, nel solido è negativa e in tutta questa zona è semplicemente nulla. Quindi questo è il problema, e quindi la temperatura è zero in una regione che misura positiva in quel rettangolo. Questo in genere può accadere anche in situazioni più complicate, anche quando c'è una dipendenza dallo spazio reale. Qui è facile da vedere che non c'è dipendenza dallo spazio. Ma anche quando c'è dipendenza dallo spazio, effettivamente può accadere che si formino delle top, delle piazze, dove voi identicamente vivono con le poste. Quindi, la frontera diventa più una soluzione regolare a soltanto tempo. Ci sono quelle condizioni per cui rispondono un po' accaduto, ma non c'è dipendenza dallo spazio reale. Questa è un esempio. Quindi un esempio che fa capire come la soluzione delle piazze, effettivamente se siamo una soluzione di soluzione, in questo caso è una soluzione regolare, effettivamente ha un puntamento in aspettato, diciamo, se si forma questa zona, con cui identicamente il servo. In aspettato, dunque, la soluzione delle piazze reale. Un altro esempio che in realtà ho già fatto, ma in un punto di strano, è quello del problema di una soluzione regolare. Un altro esempio. Sia, come chiamiamo, F, no F, come chiamamolo, A, sia qua, che un carino uguale a zero, che un zero negativo. Questo è il problema di una soluzione regolare. Quindi non è una soluzione regolare, ma è un problema affetto, sia quello che si fa. La soluzione esiste. La soluzione classica esiste. Ma esistono le soluzioni. Per almeno per te i piccoli. Per chi è più piccolo e più grande. Perchè sono assolutamente certo che questa soluzione, quindi cosa vuol dire che la soluzione esiste? Esistono una S che soddisfano quel problema che avevano scritto prima la soluzione alla sinistra. C'è un tino x uguale a 0, che è un dominio quantitativo, u x uguale a 0, perché h è 0, al dato iniziale un n è un 0 e sulla soluzione libera un 0 e un x uguale a 0. Bene. Come mai sono assolutamente certi che questa soluzione non può essere una soluzione? Questa soluzione non può essere una soluzione. No, se... No, se non ci fosse un bisogno. Non si sta iniziando. No, se non ci fosse un bisogno. Non si sta iniziando. Prendiamoci un po', ormai. Cosa abbiamo detto prima? Ricordate come ho fatto quel movimento sul segno della condizione del mix uguale a quelle seconde. Ho detto, attenzione, se io cambiassi tutto il segno di gestire un negativo, questo, volendo, preso all'oretta, mi darebbe un risultato che era già sbagliato. Mi direbbe che, anche il segno è negativo, il ghiaccio ci scioglie. Questo non tolgo. In sostanza, il fatto è questo. Se io traduzco, questa è una cosa che ho fatto un po' provata, se io traduzco la formulazione demore nella formulazione classica, come tutto questo qui, il segno della condizione di Stefano viene sempre automaticamente giusto. Cioè, nella prima formulazione demore, il segno è sempre più giusto, nel senso che, se ho una fase solubare, diciamo, la positiva. Per esempio, se ho una fase positiva, e poi, altrimenti, da un seno, questa fase si espande sempre. Questo, in questo senso, il segno è giusto. Ancora? Quindi, siccome in questo grafo, la base unica, si noterà, quello di che non è la soluzione debole. Bene? Per chi? Più profondamente. Perché la soluzione debole è basata, la definizione della soluzione debole è basata su un argomento energetico, che è quello, appunto, energetico corretto. Va bene? A prescindere dal fatto che una fase si propria a sinistra o una fase si propria a destra. Chi è che decide nella soluzione debole? Chi è solido e chi è libero? Cosa è che decide chi è solido e chi è libero? A un punto di vista, 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 chi è una fase soddica o una fase nonna? Come fatti a questo? Guarda il segno di U, guarda il segno di U, guarda il segno di U. Se V è più piccolo di zero, non c'è una fase soddica. Se V è trazzarevo, non c'è una fase soddica. Va bene? Nel caso di una soluzione classica, questo non è proprio così. È così se tutto va bene. Attenzione, però, se tutto va bene. Cioè, se noi abbiamo scelto un componente che a sinistra ci sarà l'acqua e la testa ci sarà il ghiaccio, e abbiamo, in conseguenza, trovato un segno di Stefano con quel segno lì, e allora, effettivamente, se a sinistra nel dato positivo ci sta veramente l'acqua, qual è il dato positivo, se non c'è nel positivo ci sta veramente l'acqua, d'accordo. Ma se, per qualche motivo, perché altri cambiano segno, la D, la temperatura, diventa diventata un'acqua e allora la D diventa ghiaccio. Non si forma un'acqua che è l'acqua. Quindi, diventa un'acqua, diventa un'acqua. Ma questo non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema. Quindi, diciamo, nel caso della formulazione classica, le due fasi, il solito in cui lo vengono definiti anche in un. Si sa, il topologicamente vengono identificate come le due zone, separate da una curva di livello, da una superficie di livello privilegiata, a un po' dal zero, che è la frontiera libera. Chi è la frontiera libera perché non riusciamo noi? Quella è la frontiera libera. Bene, e la facciamo con il tempo, in accordo alla condizione di Stefano. Se poi, per un caso voluto, da un'altra parte nasce un'altra interfaccia, un po' dal zero, questa non diventa la frontiera libera. Resta un'interfaccia, una, scusate, una linea di livello, una superficie di livello uguale a zero. Non così nella formulazione debole. Tutte le volte che nella formulazione debole la U passa attraverso zero, quindi la formazione debole, da questo punto di vista, è più restrittiva della formazione di fase. Cioè la formazione debole forza è il cambiamento di fase tutte le volte che la temperatura passa a fare zero, a fare zero, a fare zero. Cambio della formazione classica? No. Forza è il cambiamento di fase solo quando passiamo all'interfaccia della particolare superficie che abbiamo definito noi. Dandone una legge di munizione per una posizione iniziale che abbiamo definito come la superficie D, la frontiera D. Va bene? Va bene. Quindi, c'è questa differenza veramente un po' sottile. Qui non vorrei, diciamo, commentare altrimenti perché penso che ci sono confusioni. Ci pensate se avete domande su quelle strutture che parliamo senza. Va bene. Dunque, vediamo che cosa possiamo fare con questo tipo. Allora, quello che vorrei fare sulla, naturalmente, a questo punto, definita la soluzione delle bolecchese, potrebbe rilustrare resistenza all'uscita. Va bene? Non so se non è in grado di un'intercissima domanda, ma se non costante. Allora, io ora farei così. Farei vedere come, in realtà, per molti tecnici, conviene dare anche un'altra definizione di risoluzione. di bolecchese di bolecchese di bolecchese, che si ritrova semplicemente fatica. E poi parleremo, giusto per il piano, di spazio di solophef, perché, come dicevo, c'è uno scema, c'è uno scema, c'è uno scema. Vabbè, allora, cominciamo a dare la definizione di un'altra definizione di risoluzione di bolecchese. Qui, mi sono dimenticato anche una cosa, col problema di bolecchese. La fi deve essere anche tale che la fi b schiede 0, al livello più grande è 0. Scrivete, aggiungete questa cosa. Perché? Quindi, perciò, come mai qui deve essere necessario di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione. Perché? Perché? Come trovo la formulazione? Beh, se probabilmente, integrando, moltiplicando il numero, la lasciamo nel tetto di 1, vorresti io, perché la spero? Quanto integro rispetto allo spazio? Ciccola. Allora, v meno la lasciamo nel tetto di 1, moltiplicando questo, fa 0. Bene? Integro, integro del tempo. Integro del tempo e quindi viene l'integrale su QT di meno 1 per QT, più l'integrale su QT, di QT, per QT, più grande, meno l'integrale su QT, a livello di 0, a livello di 0, a livello di 0, di 1 di x e 0, o per i 2 di x e 0. Formalmente questo, però, che deve venire? È vero che proprio non deve venire sì, ma perché lo fai? Però, diciamo, se le cose devono funzionare, almeno in caso, in una certa regolarità, deve venire solo più forza. Se no, siamo con l'ultima. Benissimo. E poi c'è la parte di spazio. La parte di spazio da più l'integrale di gradiente di θ per il gradiente di φ, e questo è il problema della divergenza. E poi, attenzione, ci sarebbe l'integrale, c'era il conseguimento, l'integrale da 0 a QT dell'integrale sulla frontiera di omega, della derivata di θ rispetto a n, Qui, tra l'altro, lo scritto, formalmente, ormai lo lascio così, formalmente è un po' in cattivo stile di scrivere la derivata di θ, di u in vien, eh? Vediamo un secondo tempo. Devata di vien, perché? Perché qui ho una divergenza divergenente, io non ho una divergenza divergenente. Chiara? Quindi qui c'è la derivata normale di 1, perché questa condizione è ereditata dalla configuratura. Vabbè, comunque, comunque sia, qui c'è la derivata di chiama n, questo, e questo deve essere 0. Allora, questo fa 0 perché è nel contese, quindi va bene. Ehm... Giusto. Questo c'è, eccolo qua, v0. Beh, la f, che in questo caso non c'è perché lo veste uguale a 0, ma altrimenti ci sarebbe veramente. Questo e questo ci sono, più di là, e questo non è proprio, eh? Quindi questo è il... quel punto inutico, quel punto inizio da scrivo così, la differenzione del massore, questo è il filo di x centigrani, nel senso. A volte ci si mette questo filo di x centigrani uguale a 0, a volte no. Allora, ora voglio solamente, appunto, far vedere come giusto così per, per fare un po' l'esercizio, in questa formulazione di x centigrani, come da questa formulazione si passa, si può passare a questa traccia. Definizione alternativa, diciamo. Definizione. Prima di, eh, la soluzione, v, in n, e finire con t, con t, con delta di v, in n, e 2, di 0, con t, 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 con t. Quindi, questo è la soluzione, è la soluzione, di, sedere, vale questa cosa, l'interno è solo un p, di meno un f di t, il gradiente di t, sarà il gradiente di si, quindi x di tau, uguale a, sto copiando allora, l'integrale di f per fi, su t, più l'integrale s-mega di v0 x per fi di x, meno l'integrale s-mega di v0 x per fi di x, quasi un, o un posterno, ok? vediamo quasi un ura, in, in fi? Of course, un posterno, ok, Thirty realized, però di fi che sta nello stesso spazio che c'ero a questo il centro. Questa volta ho bisogno naturalmente di supporre che fissi a zero la videoterapia. C'è una sicurezza. Questa è una definizione più forte, se volete. Scusate, però c'è un più un'aesmai, che è stata questa idea. Qui non sto a integrare tutti i grandi, devo arrivare con il tempo più piccolo, per cui c'è unissimo tempo. Bene, mi sto a integrare e sto a integrare. Questa è una problematica. Grazie. Sono qui. Solo qui. Vabbè, sono molti questi qua, che probabilmente ce li devono aspettare, ma ho una variante di intersezione. D'accordo? Allora, è chiaro che se io ho una soluzione nel senso primo, def primo, questa è anche una soluzione nel senso di questa definizione originale. Perché? Basta prendere i piccoli che tende a tigrare il def, diciamo, o prendere una fila che tende a zero, per ti che va di grande. questo pezzo va a sfruttare e si ottiene sempre. Quindi da def primo, da def banale. Meno banale, posso trovare da def alla def primo. Come si fa da def? A rivolgere questo potese qui, e a ottenere quella cosa? Non è facilissimo. Non è un'altra cosa, ma è un'altra cosa, ma è un'altra cosa. ma è un'altra cosa. Bene. Grazie. L'idea è questa. Quindi, io so che vale questa, voglio dimostrare che vale un'altra. Da def a def banale. Def significa def. Prendiamo una fila lunga. Fi che sta in un doppio, un doppio più di un c. senza ipotesi che si accoglie all'istante finale. Definiamo una... Fissiamo. Fissiamo. O disegniamo. Fissiamo. Definiamo. Fi Ndp, dix pi, dix pi, dix pi. Così. Fissi fissimi. La fi di x, quella originale, per un count off. chi è Na? Chi è Na? Nt è una funzione che forse è meglio semplicemente disegnare per definire l'analiticamente, fatta così. Vado 1 fino a t segnato e poi vado, decresce minimamente, a t segnato più 1 su a livello, per esempio, e nel mezzo di cresceremo minimamente, per esempio. Fuzione di decisione. E' chiaro che chi è finita sulla elevata di primo, quindi è semplicemente minimamente lo su a livello. No, minimamente lo su a livello. E' minimamente lo su a livello. E' minimamente lo su a livello. Uno in un tempo, uno su a livello. Bene. Puntura. Questa Fiemme soddisfa l'ipotesi Fiemme soddisfa l'ipotesi di F. Perchè zero? Perchè zero? Sicuramente perchè non è più grande, più grande è qua. Giusto? Quindi posso scrivere quella cosa. che è l'integrale sui punti di D, meno 1 φ e di D, più gradiente di θ U, gradiente di Fiemme, uguale all'integrale di Fiemme, più l'integrale di 1 di x è 0 e di 0 di x è 0, chiamato qua, per fine invece di x. Bene, allora vediamo che cosa c'è qui di strano, di critico e che cosa c'è invece di manacca. Allora, il termine, la probabilmente viene anche per quello che dovete prendere, se non l'ho chiamato farina. Allora, la cosa più banale è questa ultima, in quest'ultimo integrale n come se non ci fosse, perché tanto fi n amistante 0 è sempre uguale a fi, chi è sempre uguale a u. Quindi questo è sistematicamente uguale a v0, quest'ultimo diviso 0, questo è il punto di vista. Questo si comporta proprio bene perché questo è uguale a un integrale più 0 per fi n amistante. Questo si comporta proprio bene, perché f per fi per chi è? Cioè sto tagliando questo integrale del gruppo, si appunto in modo un po' lisciato, con due lucizze, al tempo tessinale. Quando n è in esempio, semplicemente, se la cosa è che è in esempio il gruppo di idea, è l'integrale a che cosa c'è? All'integrale fatto solo fino al tempo tessinale. Questa funzione, che è in 2, è la funzione caratteristica di un intervallo che deve insegnare a questi integrali, tende a l'integrale su cui ti insegnano i f e perfetto. Anche questo si comporta proprio bene. Questo, in realtà, nonostante una niente, è uguale. Giusto? Per chi è vero che c'è l'integrale, l'integrale è fatta rispettare la variata di spazio, quindi, l'integrale su tutti i varianti di θ e per il varianti di φ. E' come l'integrale fatto su tutti i varianti di θ e per il variante di φ, tutto moltiplicato per i enti, cioè siamo sostanzialmente nella stessa situazione per il varianti di f. E questo tende all'integrale fatto su tutti i segnali del varianti di θ e per il variante di θ. L'unica parte critica, diciamo, è questa, perché qui effettivamente si ha una cosa che dipende da, dipende da, dipende da, diciamo, che è il primo centri, il povero affetto, e andiamo a farci questo punto qua della prima cosa. Allora, l'integrate su gutti di meno 1 per phi n di è uguale a l'integrate su gutti di di meno 1, phi di tn, meno 1, phi tn primi. Torna. L'initza, che si può usare anche per le funzioni di solo f, quindi per l'initza si può scrivere così. D'accordo? Questo, in ecco un quadratino, questo se ne va a l'integrale di meno 1 per phi tra 0 e tn, quindi questo darà quel pezzetto lì della f. Questo è il problema. Questo è il problema. Allora, questo lo presentiamo così, ormai già che ci siamo, portiamoci dietro tutti i due pezzi. Questo è l'integrale su tutti i due pezzi di meno 1 per phi di tn, questo lo lascio così, più che così. Questo è l'integrale tra t segnale e t segnale più 1 per n, d'accordo? Qui c'è un segno meno, beh, no, ma qui c'è un segno meno, che chiede il volumino meno, però c'è l'altro segno meno 1, qui, qui, d'accordo? Torna a questo. Di che cosa? Che l'integrale su omega di v per phi, quindi di x. Questa è una uguale a zero, non è che c'è le approssimazioni. Chi è n primo è diverso da zero solo per chi entra di segnale per segnale per uno suegno, dove è identicamente n più 2, più uguali a zero. Questo è il conseguente. Questo integrale interno fa quello applicato da soluzione l'è una funzione di tau. Che tipo di funzione di tau è? Non è appunto un buon'idea, quindi, purtroppo. Che tipo di funzione? In questo momento noi sappiamo solo che quella della funzione di tau è l'integrale, infatti, rispetto a n variabili, di una funzione misurabile di n di uno variabili. Cosa ci dice il problema di funzione di chi ha una funzione misurabile? Ha una funzione misurabile. Giusto? Vero? Misurabile è integrale. Allora, questa è la derivata, non è una po' più infinità, se volete, di questo integrale è una funzione misurabile. La funzione integrale. Ok? Questo si sa, la teoria di Leberge dice, che questo ingerito tende quasi dunque all'interale. Giusto? La derivata all'interale è quasi dunque all'interale. quindi, per quasi punti disegnato, per quasi punti disegnato, questo tende a che cosa? Allora, il primo tende, tranquillissimamente, a disegnare di meno che un figlio. e su questo è un figlio. Il secondo tende a, l'integrale, su obita, a un livello disegnato, naturalmente, di un perfetto. che è esattamente come percorrere la conseguenza. E quindi ho dimostrato che la destra imputa la destra primo con questo trucchetto di approssimazione. Questo è un giochino tipico che si fa con le definizioni deboli, insomma, quando si ha già appunto bisogno di ricalarne qualche informazione che ha più, che ha più o meno. che si fa con le definizioni deboli. Va bene, e a questo punto farei, appunto, una breve, breve di piani con gli spazi di sotto, che poi si danno quelli che usciremo domani. Allora, bella. Allora, bella. Allora, bella. Allora, bella. Esattamente. Allora. Allora, bella. Allora, bella. stime per soluzioni di equazioni paramomiche in particolare non avendo lo stesso anche le equazioni delle stime di questo genere ricordate l'integrale più un quadro l'integrale più un quadro meno un quadro di una cosa bene ora si sa che queste sono le diretture che impingano che semplicemente implica che vn tende deboli a una v deboli in N2 e vnx tende a una v anche in N2 d'accordo? allora sarebbe essenziale come vedremo sarebbe essenziale potrebbe dovremmo dire a questo punto di un doppio è arrivato in N2 cos'è che è detto? è detto così perché dovrebbe essenziale un doppio non scegno di più ecco gli spazi di sopra servono sostanzialmente a questo a dire che se questo è vero allora un doppio è davvero arrivato in N2 in un senso che è il senso di sopra che è il senso di sopra questo è il spazio di sole fregia mediante gli spazi di sole con gli ingredienti degli spazi di sole questo implica anche il punto di più di questo è il senso Allora, cominciamo a dare una definizione generale. Per definizione, siamo in L1-Hok di ottica, si dice che V2, appunto, in E1-Hok di ottica, e la derivata è uguale, cioè, è la derivata rispetto a... Allora, diciamo che la derivata rispetto a X, V nel senso di Sogolf, nel senso di Sogolf, o nel senso delle derivate di E1, così come uno riferisce, se, e solo se, per 1, F in C0, il finito di O, l'integrale, fatto su O, di V per la derivata di F in V di C, integrata in V di C0, che è meno l'integrale, fatto su O, di V doppio per C0, in C0. Questa è la definizione. Vedete, se V fosse una funzione anche a generizia definita, per esempio, questa quaglianza sarebbe direttamente soddisfatta con V uguale a, esattamente, alla derivata di V di C0. Giusto? Va bene? È ovvio. L'Ibritz, oltre alla divergenza, dice semplicemente, questo integrale è zero. Naturalmente, a questo punto, per definizione, la V doppio, noi la chiamiamo derivata di V di C0. Prima osservazione, se volete il primo risultato, da cui non è il nostro datore pubblico, chiamiamola osservazione. La derivata di V in V, nel senso di solo metodo soddisfeso, è 1. di V di C0. Come mai? Supponiamoci che siano due. Eh, ma allora tutte e due soddisfano questa forza qui. Giusto? Quindi, la differenza di queste integrali è zero. Giusto? Se ce ne sono due, eh, scriviamo, grazie. Infatti, se il doppio 1 e il doppio 2 sono derivati, eccetera, è evidentemente quella definizione del integrale del doppio 1 e il doppio 2 per fi, integrato su uno, che ha zero. Per ogni funzione, C0 è definito il supporto compatto, il che, come è ben nuovo, implica il doppio 1 e il doppio 2 per fi, il doppio 1 e il doppio 2 per fi, quindi, diciamo, questa è la prima forza da controllare. Quindi, la derivata di solo, ammesso che esiste, non è il dito 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 che esiste, ma è il dito che esiste, è un dito. Ammesso che esiste, è un dito. Ehm, lo spazio di solo F delle derivate, diciamo, in generale si considerano lo spazio di solo F, diciamo, corrispondenti a pari indici di sommabili. Allora, diciamo, lo spazio di solo F, per nome, per definizione, F. lo spazio di solo F, lo spazio di solo F, un doppio 1, P di omega, cioè lo spazio di derivate primi insommabili delle U, è fatto da le U che stanno nelle U di omega, tali che tutte le loro derivate, un'unica X, nel senso del software, ovviamente, stanno ancora in L di omega. Quindi non sono solo funzioni a lungo log, ma sono B p, cioè sono funzioni a lungo log. che è la... Beh, diciamo, l'integrale sommometra di U a P, più la somma su U dell'integrale sommometra delle derivate di U di SI a P, in tutte queste integrale, in U, dove va la cosa? Questa è la norma. Allora, è una norma L, sostanzialmente, diciamo che è equivalente alla norma L, dell'O, più la norma L, più la norma L, più di tutte le derivate. Quindi, in particolare, quindi, osservazioni, un po', dire che U è in U, è in U, in doppio 1, di omega, e per D, per D, è che U, N, tende a U, in E, per D, e per D, tutte le derivate, più N, in X, tendono ad U, in D, in E, per D. E, per D, 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 e che, la derivata, non è uguale a U, in QA, di X, è in daire, ma un doppio, inettevole, 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 non è uguale a U, non è uguale a U, in QA. È vero che, è un doppio, la derivata, è un doppio di X, contro B. Vediamo. quanto fa un integrale, un doppio, per, ehm, una qualunque, FI, in QA. Questa, per definizione, FI, è in C zero, con l'inettevole. Qua, questa, per definizione, di, 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 è il V, rendere il definito, dell'integrata, su omega, per la derivata, di, per il, perfetto. Sotto, l'espezione di convergenza di U. Questo, è, meno, il limite, per n, che va in finito, dell'integrata su omega, 2m, per la derivata di FI, questa è, la definizione, derivata di Sobret, per la web n. Di nuovo, convergenza di U, definizione di convergenza di U, questo è, meno, l'integrato su omega, del limite debole del 2 al primo, per la derivata di x. Fine. Confrontiamo questa uguaglianza dal primo termine, o dal ultimo, con una definizione di derivata di sopra, e quindi abbiamo mostrato che effettivamente l'unico è la derivata di x. Il risultato è profondissimo, in un certo senso, assolutamente valente da dimostrare in questo punto. Una cosa che noi useremo, una cosa che noi useremo senz'altro, sono i risultati di potenza. I risultati di potenza sono di questo tipo. Allora, per noi ora i è, diciamo, maggiore senz'altro più vuoi. Se P è maggiore senz'altro più vuoi, e io so che l'abilità, questa cosa, questa norma, questa successione di norma, è limitata dalla costante, come si prende la n, allora esiste una solita successione, se prendiamo la 2K, tale che 2K converge a 1, forate, attenzione, in elettrica unica, tra confezza forte, come 2, e questa è la finala A, e questa è la finala 1, il gradiente di 2K, e la finala 2K converge dai varianti di 2K, debole, debole, inelettrica unico. D'accordo? A resta reale. Sì, anche se 2K, di 2K resta reale, per esempio. Non è vera la qualchezza del 2K, no. Nell'idea dell'ordine c'è la qualchezza del 2K, non è vera la qualchezza del 2K, ad esempio tipo l'approssimazione del 2K, che ci sono. E quindi il 2K, non è vero il 2K, ma è vero il 2K, è vero il 2K, quindi questo è un risultato che utilizzeremo. In particolare qui, per avere tra l'altro, a questo punto, già che siamo esterni sulle successioni, possiamo anche sfruttare quella conoscenza, se cosa comunque. di questo risultato che sicuramente utilizzeremo. Chiederei che praticamente non utilizzeremo molto più che questo, mi sembra. Utilizzeremo alcune regole strane al contatto, come la regola del BAT, come la regola del LIFE, insomma, le altre spazio di software. Qui bisogna staccionare come attenti, perché naturalmente quando si modificano funzioni integrali, ma non limitate, come detto, che il prodotto sia integrale. Quindi la regola del LIFE è principale, purché il prodotto sia effettivamente una funzione integrale, quindi il prodotto dei vari componenti, insomma, che questo, in questo momento lo aggiungeremo molto. Volevo fare un paio di ossentazioni su come sono fatte davvero le funzioni di software. Allora, le funzioni di software, purtroppo, possono essere definiti, possono essere definiti. Per esempio, se io considero questa funzione, la funzione Qbx uguale 1 su moduli x alla alfa, definita nella palma di centro di zero laggiù. Beh, questa è una funzione chiaramente limitata. Alfa o alfa o alfa o alfa o alfa o alfa. Questa è una aula contenuta di RL. Allora, si vede che, effettivamente, questa unica, sta in doppio 1 di, della mia favola, se sono 6, alfa è il minore, se non mi porto male, niente, non mi si mette. Purché, certo, quale fu i limiti, p deve essere minore niente, se non c'è nessun alfa positivo di risultato di sé. Quindi, effettivamente, facciamo un caso concreto, n è uguale a 3, per esempio, n è uguale a 3, più uguale a 2, in un caso ragionevole, no? Un pazzo di soffro è un esponente di indice 2, in linea di 3, in un caso abbastanza standard, che da un punto di vista applicativo, in questo caso alfa essere minore di 1 mezzo. Se alfa è un piccolo di 1 mezzo, questa funzione di soffro è una funzione di soffro, anche se è limitata nello spazio che ha detto. Bene? Quindi questo è un caso, diciamo, concreto, che fa vedere che le funzioni di soffro possono essere effettivamente i limiti. Ora, questo non vuol dire che i versetti, le soluzioni dell'equazione, per esempio, del valore, che possono essere decimite con le funzioni di soffro, che possono essere limitate. Quindi, le soluzioni di soffro è molto particolari, perché le soluzioni di soffro è una certa equazione, ma addirittura se sono soluzioni deboli e l'equazione del calore è più e semplice, si può vedere che sono addirittura infiniti. Quindi, diciamo, il fatto che siano funzioni di soffro, che però le soluzioni, una certa equazione integrale, che è la formazione integrale dell'equazione integrale parziale, le classifica in una classe molto particolare che, in realtà, spesso ha delle regolarità maggiore di quelle indicate allo spazio di soffro le fungionali. Ma, in generale, è più che le funzioni di soffro possono essere limiti. Eh, possono essere limiti. Possono essere limiti. Possono essere limiti. Possono essere limiti. Ehm... Un'altra, un'altra osservazione è... è... è questa. Ehm... 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 Diciamo che un bacio di un problema, di una certa importanza, se obbietà e reguare c'è sostanzialmente c'è sostanzialmente sibilità obligante di uniziana, se la bicchiera è fatta da dueplici di uniziane. Ehm... appartiene a un O più 1 B di Omega. Esiste una successione a quella che sta in C-infinito di R che non è. C-infinito di R è C-infinito nella chiusura quindi è regolarissima, regolarissima, tale che U è tende a U nello spazio di software il doppio di U. Ehm... Cioè, in sostanza, le funzioni di software se il dominio ha un minimo di regolarità, cioè se il difficiziano, si possono approssimare nello spazio di software con funzioni regolarissime. Con funzioni regolarissime. Con funzioni regolarissime. Questo si fa mediante la convoluzione, come si dice, la regolarizzazione e la convolificazione. Questo domani penso ne parleremo a un certo punto, ma comunque, diciamo, per un anno lo voglio dire. Ci si può fare. Ehm... Volevo fare un'altra osservazione che volevo fare sulle funzioni di software che non... che... Ehm... 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 hanno questa descrizione per fortuna semplice, chiara e classica. se Omega è un intervallo AB con il numero che è NER, V2 1B di Omega è data le funzioni inutili che sono AC su AB quindi solamente con U su AB con un equilibrio che sta in R tutto qua. Quindi le funzioni sono una dimensione che funzioni assolutamente continua con una derivata prima in Lb. Vi ricordate che una funzione assolutamente continua non è che questa definizione ma insomma la caratteristica è che si può essere diverso come l'integrale della linea. Bene? Bene. Bene. che cos'è Ux pieno Uy in questo caso? Questo è l'integrale tra x prima di S e S giusto? Se io qui ci metto un valore assoluto qui maggiore metterci un valore assoluto ma che nemmeno e magari anche solo per x che dovrebbe essere per x bene. è ma questo è uguale per la equizia di x meno y alla 1 per l'integrale tra x e y esatto accendolo subito a B più più alla 2 l'integrale e l'integrale applicata alla doppia le funzioni in un modo qui ecco questa è una costante naturalmente che è una costante definita quindi questo dimostra che le funzioni che stanno in questo spazio in una dimensione spaziale hanno un modulo di opportunità alziani hanno un modulo di opportunità alziani questo è un risultato simile che vale anche in più dimensioni spaziali os v 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 Qualche ultima osservazione, cioè lo spazio doppio zero. Per definizione, lo spazio doppio zero, uno, pd, di omega, si può, diciamo, a quelli a cui piace fare le cose legante, lo riferimento da fondo, il completamente di c, zero, infinito, di omega, questa parte la sopra mi è crescita, nella norma di doppio, doppio, di omega, cioè dentro il modo più umano. Sono le funzioni U che stanno in doppio nome di omega, tali che esiste una successione U che sta in c, zero, attenzione, c, zero, infinito di omega, con quelli che tende a un in doppio, infinito di omega. Che vuol dire questo? Che questa funzione, le funzioni di zero, infinito di omega, sono funzioni che vengono raggiunte, che, nella norma di doppio, da funzioni che sono zero, infinito di omega. D'accordo? Attenzione, si fa bene che tutte le funzioni di omega possono essere approssimate, nella norma di omega, da funzioni, da O, da funzioni che sono zero, infinito di omega. Va bene? Questo è quello, non c'è nessuno più, che tutte le funzioni di omega. Per ora, v, finente di omega, esiste una successione U n, in c, zero, infinito di omega, tale che la norma di numero U n, è in elettrica di omega base. Va bene? Questo è vero. Non è vero per gli spazi di solve. Cioè, se io scelto qui, non la norma di E, ma la norma di solve, questo non è vero per tutte le funzioni che stanno in uno spazio di solve, ma è vero solo per un certo solo spazio, che noi chiamiamo spazio, un punto più zero, con traccia nulla al volo. In effetti, si può vedere che in un certo modo, insomma, non voglio mettermi troppo a discorso questo, ma che in un certo modo, in un certo senso, queste funzioni conservano la memoria dell'avere, dell'essere nulla al volo. e quindi, in un certo senso, comunque. Per concludere, proprio questo sarà la ragione della conseguenza, non so la risultata del secondo concetto. Questo, anche per facilitare una tecnica caratteristica di lavoro, la nosia a rifare le funzioni di secondo. La rispondenza di un po' accademici è questa, se u appartiene a un coppio 0, 1, 1 di omega, l'integrale fomica di un quadro di x è uguale di r4 per l'integrale fomica del gradiente di un quadro di x. Se è questo, se è, è il diametro di un po' accademici. Ovviamente la rispondenza di un po' accademici è il massimo delle distanze tra l'unico di un po'. Di vostro esempio, supponiamo, e questa è la tecnica di un'academici, che un u appartiene al g0 infinito di omega. Bene. D'accordo? Questo è omega. Questo è un punto di vista di omega. Consideriamo, per esempio, una retta, parlando della monoglia, se coordinando, per esempio, al primo che parte da x. Allora, quanto vale di x? Qui se vi mettete l'integrale tra x1, se vogliamo con un segno meno, e più infinito della derivata di x1 in dx. Fatto, insomma, il tempo di mettere su questa retta, su cui mi metto una scissa x. Vi torna questo? Sì, perché fare l'integrale tra 0 e infinito, e tra x1 infinito e f1, ma questo è il suo monofonente, e f1 è la prima monogliata di x1. Perché, chiaramente, quando avremo qui, ho trovato un 0, per questo risultato di quanto voglio sempre un 0. E, sicuramente, cos'è l'integrale di questa derivata? È 1 di qua meno 1 di qua, cioè 0 meno x, il segno che mi mette a costruire. Bene. Vi torno a questo? Sperato. 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 E' l'integrale di qualcuna quindi svettaya,ii al quadratgo di x è l'integrale svettaya dell'integrale,io tra x1 e infinito di x1, diciamo di x,alq, x, questa è una nuova parte dell'integraio su omega e qui io aumento, sicuro aumento, se faccio l'integrale se qui c'è, anzitutto posso aumentare e mettereci un valore assoluto a queste linee dopo lì che aumento se faccio l'integrale non su un pezzetto contenuto dentro omega ma addirittura tutto questo segmento qua, la cui lunghezza peraltro è sicuramente il numero del dialogo di omega quindi, applicando poi il scisvagio sui friteri, mi viene l'integrale storico dell'integrale di r quadro di r, anzi, r per l'integrale tra omega infinito e infinito, formalmente di nuovo per la tavola quindi, attraverso l'artomita, più di sumo alto grato di x di più di x va bene? Attenzione però, a questo punto, questo oggetto qui, questa funzione integrante, la vedete, è rosa questa funzione integrante non diventa più della mia variabile perché la mia variabile è stata saturata da questo integrale ed è spalitata anche dalla testa di amministrazione quindi, l'integrale della prima variabile, quindi, che ma diventa banale cioè, non posso fare un mediattamento, quello che non posso mangiare, perché dice di nuovo il diametro di omega, giusto? e quindi, questa è l'integrale di era per quadro, con l'integrale su omega, della derivata di x, giusto? a maggior ragione si è voluto scendere i limiti bene, ma questo vale solamente per le funzioni g0 infinito, è vero ma io prendo una funzione che sta al punto 0,1,1 ed è la prossima funzione un m che sta al g0 infinito poi, cioè, questa cosa qua, la riscrivo per una prossimazione q1, va bene? dopodichè, passo all'idea definita questa è la norma qNN2 converge alla norma qNN2 per definizione di convergenza con un m questa qui converge alla norma definita l2 e quindi, questo è un modo caratteristico di lavorare con la funzione di software si dimostra prima una cosa per le funzioni regolari e poi si passa un po' di sovrappure alla prossima ci vediamo un po' di sovrappure ci vediamo un po' di sovrappure